non siamo collegati con l'istituto internazionale del CNR per un nuovo webinar già il tredicesimo webinar dell'inizio dell'anno una vera e propria maratona che stiamo sottoponendo i nostri eh diciamo questi aficionados e anche questa volta ci dedichiamo a un tema di grandissima attualità e lo facciamo in compagnia eh di persone che da tempo eh si stanno eh dedicando a questo tema. Il tema è quello del reddito di base che è un tema che per noi cultori del diritto internazionale dovrebbe avere una grande importanza eh dal momento che è direttamente collegato a quello dei diritti umani in particolare dei diritti di natura economica e sociale che secondo alcuni fondamentali trattati a partire dai patti internazionali delle Nazioni del 1960 dovrebbero essere garantiti a tutti gli esseri umani eh ovviamente anche in questo caso come in altri una cosa sono gli enunciati normativi e programmatici un'altra è la realtà ma per colmare questa dissonanza tra le norme e la realtà appunto ci deve essere un'azione volta a incrementare la consapevolezza diffusa della necessità di conseguire determinati obiettivi e questo mi pare che sia un obiettivo che si prefigge la rete basic income network che mi pare sia organizzata a livello internazionale a poi una sua come dire succursale italiana di cui abbiamo qui presenti oggi i principali esponenti io sarò ancora più preferito anche perché abbiamo ben otto sette o forse otto interventi in programma che sono appunto quelli di Giuseppe Bronzini eh giudice del lavoro non che ehm fino a poco tempo fa capo dell'ufficio legislativo della ministra del lavoro catalfo e eh Rachele Serino esponente appunto di basic income network poi magari si presenterà lei un po' più in dettaglio che tratteranno due breve relazioni di una ventina di minuti l'uno dopodiché vediamo la parola agli interventi che sono appunto di Giuseppe Allegri ricercatore di diritto pubblico mi pare no Giuseppe e eh anche lui appunto al pari degli altri eh membri di questa rete basic income network eh Paola Boffo che fa parte di Transform eh e ehm poi abbiamo Sandro Cobetti che è il presidente di basic income network Italia e abbiamo un intervento fuori programma che è quello di Michele Gianella che eh si è reso promotore di un'iniziativa insieme ad altri di un'iniziativa dei cittadini europei sulla quale ci trasmetterà anche un breve video volto appunto a questa iniziativa introdurre in Europa il reddito di base. Reddito di base è un tema del quale si parla ormai da qualche anno anche in Italia abbiamo avuto un diciamo così come definirlo una sorta di primo tentativo molto eh controverso e molto sicuramente limitato di introdurre questo reddito che è il cosiddetto reddito di cittadinanza che eh a mio avviso poi ovviamente su questo interverranno i nostri ospiti costituisce con tutti i suoi limiti un primo passo per appunto far comunque eh crescere eh il dibattito la consapevolezza attorno a questo tema peraltro la situazione attuale molto difficile che stiamo vivendo nella pandemia covid ha evidenziato eh acuendo le disuguaglianze aumentando la disoccupazione mettendo a rischio anche i redditi dei piccoli imprenditori ha acuito appunto l'esigenza di questo reddito universale e e questa è una cosa della quale si parla anche appunto a livello europeo eh e dobbiamo dire che ovviamente l'Italia in ambito europeo è sicuramente tra le esperienze meno avanzate in questo ambito mi dice un grosso lavoro da fare e eh a me interessa appunto in quanto a momento direttore facente funzione delle istituzioni internazionali evidenziare anche questi legami tra il tema del reddito eh di base e il tema dei diritti umani che dovrebbero essere garantiti a livello internazionale ecco ci ho detto ho parlato fin troppo e darei la parola per il primo intervento a Giuseppe Bronzini prego Giuseppe. Sì eh grazie a il professor Marcelli Fabio per aver organizzato questo incontro e io cercherò senza altro di limitare le cose le molte cose che ci sarebbero da dire nello spazio assegnato magari qualche minuto di meno e volevo solo sintetizzare più o meno quali sono state le novità come già accennava prima Fabio in questi ultimi diciamo tredici quattordici mesi cioè i periodi eh di eh tentativi europei e nazionali di contrastare le conseguenze sociali di rimediare in qualche modo le conseguenze sociali economiche della pandemia in corso eh scusate se ripeto questo argomento ma che alcuni l'hanno già ascoltato mi sembra che circa un mese fa l'economist in un numero eh che si intitolava bouncing back cioè diciamo il rimbalzo ehm metteva diciamo il focus della sua attenzione sulla necessità che il cosiddetto rimbalzo il rilancio dell'economia e comunque eh eh le società così colpite dal virus dovesse non avvenire ripristinando lo status quante cioè la cosiddetta normalità ma ehm si sarebbe dovuto diciamo si si dovrebbe diciamo utilizzare le cosiddette occasioni per un linguaggio così del costituzionalismo diciamo radicale le occasioni costituenti della crisi come direbbe qualcuno per non per tornare al passato ma per cercare di risolvere quei problemi radicali di copertura universalistiche cui accennava già Fabio prima eh dei bisogni vitali che i nostri welfare presentavano presentano e che auspicabilmente non dovrebbero più presentare in una situazione di autentico rilancio il rilancio non può essere ripristino deve essere diciamo un progetto di eh riapertura del eh progresso di evoluzione sociale se vogliamo dire con termini così tradizionali il focus eh dell'economist molto opportunamente era proprio legato al fatto che auspicabilmente il futuro vedrà incrementare la domanda di introduzione di un reddito universale eh questo perché perché i sistemi nostri di welfare e del diritto del lavoro erano già sotto stress prima della sfida diciamo chiamiamola così pandemica e che erano in corso di evoluzione di radicale trasformazione per via della trasformazione tecnologica e quindi dell'obsolescenza di gran parte del lavoro contemporaneo e anche della sua trasformazione contrattuale perché gran parte di coloro che fino ad oggi possono essere tranquillamente considerati lavoratori subordinati nella digitalizzazione dell'economia perdono progressivamente questa possibilità e quindi vengono attratti in una sfera priva di garanzie. Allora riprendendo il tema dell'economist vediamo che passi ha fatto diciamo l'Europa e brevemente che passi ha fatto poi vedremo se in avanti o non in avanti quelli in avanti sicuramente andrebbero compiuti eh l'Italia. Allora per quanto riguarda l'Europa eh l'Europa secondo me è nata una grossa discussione che chiaramente qui non possiamo fare se non per accenno se siamo di fronte a un cambio di paradigma cioè se davvero l'Unione Europea si avvide si avvicina a essere uno stato diciamo prefederale ma questo non ci interessa ma ci interessa più l'aspetto invece sociale cioè se eh si prefigura un rilancio dell'Europa sociale se l'Europa effettivamente si sta avviando per una copertura anche in termini di risorse economiche di una eh sfera protettiva più ampia di quella assicurata dai cittadini europei. Secondo me dei forti segnali in questo senso ci sono stati una maggiore attenzione alla dimensione sociale eh diciamo del legame comunitario e sono piuttosto vistosi innanzitutto è stato sospeso il patto di stabilità poi è stato è stato sospeso o sostituito con il cosiddetto temporary framework tutto il sistema degli aiuti di Stato. In terzo luogo è stato introdotto uno strumento di emergenza per sostenere gli stati nell'affrontare la crisi economica e la disoccupazione potenzialmente diciamo esplosiva con il cosiddetto sciure con il quale l'Italia ha coperto per trenta miliardi le casse integrazioni tanto per essere diciamo più espliciti c'è una serie di prestiti però a tasso zero con restituzione fra trent'anni soprattutto negoziate direttamente dalla Commissione Europea sui mercati internazionali. Poi abbiamo il passo davvero che sembri in avanti del recovery fund il quale appunto prevede numerose centinaia di eh miliardi in prestiti non eh diciamo a fondo perduto che segue un principio di solidarietà per cui non ripartisce queste cospicue molto cospicue risorse in proporzione delle popolazioni degli stati appartenenti all'Unione ma in principio in relazione ai danni che i singoli stati hanno ricevuto la Germania riceverà un terzo di quello che abbiamo avuto noi perché noi siamo stati il paese cioè l'Italia eh più colpita soprattutto eh il questo il sistema del recovery fund appunto per una parte ricorre a risorse che non sono eh come abbiamo già detto sono a fondo perduto ma che vengono in parte appunto finanziate attraverso risorse proprie dell'Unione cioè tasse che anticipano diciamo l'idea di una fiscalità europea legata a una tassazione secondo principi propri che potrebbero essere appunto le tasse che l'Unione europea potrebbe prelevare ai danni dei colossi del web che appunto normalmente evadono diciamo il pagamento eh dei tributi nei singoli stati nazionali appartenenti all'Unione quindi è l'anticamera della formazione di un debito eh europeo che in gran parte non per tutto sono anche diciamo eh risorse che sono destinate agli investimenti produttivi però per una parte una cospiga parte è stata destinata alle spese sanitarie e soprattutto alle spese di carattere sociale la condizionalità che accompagna il recovery fund è una condizionalità positiva perché l'Unione europea non ha solo di mira che questi e queste risorse vengano effettivamente investite e per le finalità che sono proprie del recovery fund cioè non vengono disperse in campagne di assunzione di massa come sarebbe in Italia se non ci fosse nessuna condizionalità eh prive di alcun senso e comunque assunzioni di interali del tutto parassitarie ma appunto c'è una verifica che siano destinati effettivamente ai fini sociali che sono stati convenuti a livello sovranazionale e a questo e concludo il panorama europeo è stata accompagnata una diciamo un programma di iniziative piuttosto ambiziosa che è il cosiddetto ehm action plan per l'attuazione del pilastro dei diritti sociali cioè l'Unione europea pensa un insieme di misure per dare effettività ai venti principi diritti che compongono il pilastro sociale ora poi passiamo invece alla questione reddito brevemente ma comunque in questi diciamo principi del pilastro dei diritti del pilastro sociale grosso modo c'è diciamo l'insieme di diritti sociali a carattere economico anche di welfare che normalmente vengono eh garantiti negli stati nazionali più evoluti allora una serie di queste misure sono importanti perché sono intervengono proprio in quegli stress di cui avevo parlato prima a proposito di economist cioè nelle aree che il garantismo nazionale anche europeo fino ad oggi non aveva coperto c'è in sostanza una proposta di direttiva che che contempla eh i lavoratori delle piattaforme ancora non sappiamo in che termini ma è stata aperta un' importante consultazione con le parti sociali che cerca di dare i di accordare i diritti fondamentali anche a coloro che lavorano nelle piattaforme e che che quindi sfuggono agli schemi tradizionali di reclutamento della mano d'opera e che quindi rischiano di essere senza coperture. Fra l'altro reagendo all'attuale andazzo per cui ogni paese se ne va per la strada sua cioè in Italia alcuni considerano il rapporto dei riders come il rapporto di lavoro subordinato altri li considerano etero organizzati altri stati non li considerano per niente li considerano lavori autonomi l'Europa vuole mettere diciamo ordine in questa materia realizzando una certa garanzia anche in questi settori diciamo un po' tra eh autonomia e subordinazione i diritti protetti a livello economico sociale dalla carta eh dalla carta di inizia. Un'altra importantissima iniziativa è la seguente cioè finalmente una tutela dei lavoratori autonomi. I lavoratori autonomi dalla corte di giustizia vengono considerati come se fossero imprenditori e quindi qualsiasi tipo di contrattazione collettiva si possa definire per questi lavoratori che sono diciamo potenzialmente in crescita esplosiva visto le condizioni in cui si lavora oggi sarebbe illegale ai sensi del diritto europeo perché costituerebbe dei limiti all'esercizio delle libertà fondamentali di circolazione previste dai trattati. Allora la Commissione europea che cosa ha deciso di fare? Di intervenire pare con un regolamento che sterilizzi queste sentenze della corte di giustizia che quindi porti a affermare che anche per il lavoro autonomo anche per il lavoro autonomo eh è possibile avere una disciplina contrattuale quindi la garanzia di una retribuzione minima di un orario di lavoro dei diritti sindacali se questi lavoratori eh ne hanno bisogno per la loro protezione quindi un punto davvero importante e di una certa diciamo eh molto avanzato anche rispetto a quello di cui si discuse discute all'interno degli stati membri. Eh un capitolo invece meno positivo e quindi vengo al tema anche nostro di oggi è quello che riguarda il reddito minimo garantito perché eh come sappiamo prima del covid nel duemiladiciannove si è concluso diciamo con successo in un certo senso insperato successo la il metodo aperto o di coordinamento riguardo al reddito minimo garantito in quanto è stato finalmente generalizzato con l'adozione di schemi di reddito minimo garantito anche in Italia e in Grecia che nel duemiladiciannove ancora ne erano privi. Eh a questo punto nell'Union nell'ambito dell'Unione Europea sembrava all'inizio anche con una certa buona accoglienza dalla parte della della Commissione Europea si pensava che questo traguardo si potesse complotare completare nell'adozione di una direttiva sul reddito minimo garantito quindi non stiamo parlando di reddito di base stiamo parlando di un reddito che garantisce bisogni primari ma solo per chi ne ha bisogno cioè a rischio di esclusione sociale secondo i parametri europei. Anche la Commissione aveva diciamo all'uso in qualche intervento la possibile adozione di questa direttiva che comunque avrebbe una base giuridica in un nell'articolo centocinquanta tre del trattato sul funzionamento. Se non che quest'idea è stata un po' abbandonata perché se leggiamo il pilastro sociale l'action plan dell'attuazione del pilastro sociale vediamo che la Commissione ha deciso solo di adottare una nuova raccomandazione che si aggiungerebbe così a quella del duemila otto e a quella ancora precedente a carattere storico che ha fissato un po' i paletti europei per quanto riguarda il reddito minimo garantito. C'è un po' di paura e anche di ostilità dei paesi nordici per l'adduzione di una normativa dell'Unione perché i paesi più avanzati in questa materia come possono essere i paesi scandinavi hanno paura che i loro sistemi di inclusione sociale che sono i più progrediti al mondo vengano a essere sviliti o ridimensionati dalla normativa europea. Quindi la Commissione si è tenuta lontano da questa iniziativa mentre ad esempio sul salario minimo ha adottato comunque uno schema di direttiva che adesso dovrà essere certificato e adottato anche dal Consiglio però in cui si è compiuto comunque un passo in avanti in questa direzione. Quindi c'è solo quest'idea di una raccomandazione e quindi da questo punto di vista credo che l'iniziativa dei cittadini europei di cui poi parlerà eh si parlerà successivamente sia molto opportuna perché è uno strumento per premere nel senso che se l'Europa ha fissato l'articolo trentaquattro della carta di inizio e all'articolo quattordici del privato sociale europeo tra i diritti fondamentali quello di un adeguato reddito è chiaro che questo adeguatezza su questa adeguatezza deve vigilare una Europa che sa rilanciare il proprio capitolo sociale e lo fa diventare una rete di protezione effettiva in tutti i paesi membri ci sono molti paesi tra questo non è l'Italia che secondo me ha una legge molto perfettibile ma comunque che si colloca a metà diciamo tra le le varie esperienze europee perché comunque i soldi investiti sono stati una dotevole entità perché arrivano a oltre otto miliardi quindi il che non è poco e anche le persone tutelate dal reddito italiano superano diciamo i circa tre milioni di persone in un milione e mezzo di eh nuclei familiari quindi ha un buon take up non è disprezzabile però ci sono moltissimi altri paesi diversi dall'Italia che stanno molto peggio di noi quindi la direttiva diventa un obiettivo essenziale che va simulata anche con la iniziativa dei cittadini europei perché ovviamente però lo diranno altri meglio e comunque più a lungo di me la nostra meta è quella sì di un reddito minimo garantito inclusivo e non condizionato ma verso la meta di un reddito di base incondizionato rispettante a tutti i cittadini per le ragioni che abbiamo detto in tanti convegni e che adesso altri ripeteranno eh secondo me sulla base europea iniziativa dei cittadini eh ha diciamo dei problemi di eh base giuridica questo insomma credo che sia piuttosto evidente ma come strumento di pressione è certamente funzionante in ogni caso credo che nella nella dimensione europea anche la proposta di Ivan Paris che cerca di combinare diciamo il reddito minimo garantito però in modo più inclusivo cioè senza meccanismi di selezione troppo escludenti e comunque indizionato incondizionato cioè non legato a misure appunto di eh coercizione al lavoro come è in sostanza in tutti gli stati e gli ventisette stati europei e diciamo questo zoccolo riprogettato di un reddito minimo garantito lo diciamo aggiunge a uno zoccolo più piccolo di reddito di base che verrebbe appunto garantito direttamente dall'Europa con una sorta di euro stipendium per tutti i cittadini del vecchio continente in questa chiave cioè di un reddito universale che completa un reddito diciamo selettivo per chi se la passa peggio per così dire è qualcosa che forse col diritto europeo è compatibile perché sarebbe anche in chiave di ripartizione diciamo di ridistribuzione tra i paesi dell'Unione perché dando tipo duecento euro a tutti i cittadini europei si dà un bulgaro qualcosa che eh diciamo allude una sorta di salario minimo qualcosa di consistente per il resto provvederebbero invece gli schemi nazionali attraverso il reddito minimo garantito. La proposta di Pamparis è stata giudicata anche da altri compatibili col diritto dell'Unione perché il reddito universale è comunque di completamento del reddito minimo garantito di cui le norme europee già parlano. Venendo all'Italia adesso credo di non avere più tempo per soffermarmi molto su quello che è successo in Italia ma insomma sapete diciamo bene le misure che ha adottato il governo italiano. Ecco per quanto riguarda eh l'Italia certamente il fatto che nel duemiladiciannove fosse stata adottata una misura come quella del reddito di cittadinanza italiana ha aiutato eh diciamo a fronteggiare eh la crisi pandemica tant'è che eh la richiesta di godere di un reddito eh di cittadinanza si è molto incrementata nel tempo. Le domande sono salite del trenta per cento tant'è che il governo il primo atto di questo governo è stato di rifinanziare per un miliardo i fondi che erano già stati diciamo stanziati due anni fa per coprire anche le nuove domande. Certo si è evidenziato nel corso della pandemia che gli schemi selettivi adottati dalla legge italiana sono in moltissimi casi troppo rigidi che la normativa perché escludono su base piuttosto irrazionale persone che effettivamente ne hanno eh hanno bisogno di questa copertura eh di questa copertura di base né dimostrazione che al questo reddito diciamo di cittadinanza è stato diciamo aggiunto per il periodo d'emergenza una specie di cugino eh però più benevolo che il reddito d'emergenza che ha criteri meno selettivi meno armi da scalare e che quindi ha consentito la protezione ulteriore di ben trecentocinquantamila nuclei familiari che altrimenti sarebbero stati gettati nell'astrico dell'emergenza eh da virus e sono appunto eh quindi per venire a quello a come con proposte che riguardano il nostro paese si potrebbe diciamo appoggiare la richiesta di ICE integrando a a partire da le condizioni normative che ci troviamo un insieme di rivendicazioni anche immediate e importanti secondo me andrebbero pure eh subito fatte messe in campo perché il governo ha dichiarato l'intenzione di razionalizzare e di rivedere il reddito di cittadinanza vi dico solo alcune innanzitutto c'è la discriminazione plateale dei migranti perché il requisito di accesso al reddito di cittadinanza è pari a dieci anni di residenza e quindi è una discriminazione indiretta su questo già l'ASGI c'è l'associazione dei giuristi eh che si occupano di immigrazione ha denunciato l'Italia verso la Commissione Europea e ha iniziato una campagna di di diciamo giudiziaria per rimuovere eh anche tramite disapplicazione della normativa interna alla luce del diritto europeo questo sbarramento inoltre ci sono i criteri selettivi patrimoniali e eh monetari che sono troppo rigidi sono troppo bassi questi limiti anche l'ISEE è certamente da incrementare raggiungendo quanto meno nell' immediato adesso mi abbiamo a concludere nell'immediato i requisiti più permessivi introdotti come il reddito d'emergenza perché è chiaro che tra i milioni e mezzo di famiglie che godono del reddito di certineanza e quelle che godono oggi dei reddito d'emergenza che sono altre quattrocentomila non ci dovrebbe essere differenza perché sono tutte persone disoccupate e privi di altri mezzi di sussistenza e quindi bisognosi di una tutela eh eh basilare da parte dello Stato. La proposta però che accompagna e che viene incontro a eh lo spirito del licea e secondo me è quella di dare finalmente attuazione a una norma dimenticata che viceversa nella legge italiana c'è ed è quella norma mi pare che sia l'articolo quattro scusatemi non ho fatto in tempo a prendere la la il codice che è quella che prevede una sorta di ehm sperimentazione italiana su almeno anche fino al cinque per cento dei beneficiari del reddito cittadino quindi sarebbero eh numerose eh centinaia di migliaia di persone comunque appunto una platea piuttosto consistente per verificare gli effetti rispetto all'attitudine a lavorare la ricerca di un lavoro di un'occupazione di un'attività di un reddito di cittadinanza ma incondizionato si tratta di sperimentazioni che in Europa sono già state fatte molto simile a quella finlandese cioè di prendere il reddito e non sottoporlo a nessun tipo di eh coercizione lavorativa sopprimere secondo me questi andrebbero abrogati i cosiddetti PUC che non sono mai partiti cioè piani di utilità sociale perché e che dovrebbero essere otto ore di lavoro non retribuite ad hoc per quanto a favore dei comuni io ho avuto modo di leggere questi progetti fatti dai comuni per avere i beneficiari di reddito in uso sono progetti veramente indicibili sono più o meno tutti quanti eh come annaffiare il giardinetto davanti al comune o qualcosa di di analogo quindi è una sorta di lavoro servile che andrebbe abrogato ma comunque la sperimentazione italiana dovrebbe con serietà selezionando delle platee attribui che già godono del reddito vedere quali sono gli effetti di una incondizionatezza del reddito cancellando appunto queste forme di eh accompagnamento al lavoro che peraltro in Italia visibilmente non solo non hanno funzionato perché c'è la pandemia ma non possono contare su nessuna adeguata struttura pubblica in grado di offrire un lavoro che per la legge italiana ripetiamo deve essere congruo deve avere dei parametri minimi di eh decenza a le persone che ehm che appunto eh usufruiscono di questa tutela a carattere basilare e questo sarebbe un modo cioè una campagna italiana rivendicata delle riforme eh della normativa vigente che al lancio della sperimentazione italiana potrebbe essere un modo interno per collegare la battaglia italiana a quella più generale europea concludo qui. Bene grazie per la tua ampia relazione Giuseppe mi pare che in effetti un effetto indiscutibile di questa cittadinanza è quello di comprimere le disuguaglianze che viceversa stanno venendo esaltate in modo esagerato tra l'attuale situazione di pandemia quindi un elemento in questo senso diciamo così anticiclico di contrattendenza molto importante specialmente poi se a a questo corrisponderà anche un incremento della tassazione nei confronti di coloro che invece escono rafforzati dalla pandemia e qui facevi l'esempio della boiab tax no? Che richiede però gli accordi internazionali al momento a quanto pare non molto facili da raggiungere a questo proposito volevo dire tu hai dato una lettura ottimistica che vorrei condividere anch'io dell'attuale posizione europea bisogna vedere che cosa dirà il Bundesrefassungsgericht tra pochi giorni e tanti altri fattori insomma ma comunque al di là di questo è un tema questo che possiamo porre oltre che in Europa anche in altre parti del mondo e in che modo questa è una domanda di carattere generale che mi formulo e ci ho detto passo senz'altro la parola a Rachele Serino prego Rachele grazie Fabio grazie Fabio Marcelli grazie all'ISG per questa occasione di confronto dunque io un po' diciamo farò da contrappeso all'eccessivo positività che giustamente Papi Bronzini ha voluto evidenziare anche forse per dare forza a quelli che sono davvero comunque senz'altro dei tentativi che noi dobbiamo sempre tenere in considerazione e valorizzare noi come Bin Italia ci siamo abbiamo accolto con pur se con molti commenti e molte sottolineature e critiche qualunque a partire dal Radice di Cittadinanza a qualunque altra iniziativa che arrivasse in questa direzione tant'è che per esempio quando l'anno scorso in piena pandemia si aprirono tutte le campagne per i vari redditi e qua ci potete mettere la parola che volete dalla cura al lavandino di casa mia nel senso che veramente è stato anche un dibattito molto ricco molto interessante che ha portato a confronti spesso settoriali ma a volte anche che sono riusciti ad andare in profondità noi ci posizionammo su una richiesta chiara semplice lampante di estensione di quelle che erano le restrizioni in essere sulla legge del reddito cittadinanza quindi estendiamolo allarghiamo queste maglie cerchiamo di adattare quella che era una misura l'unica misura presente in grado di intervenire sul piano della povertà perché questo è un dato di fatto il reddito cittadinanza interviene sul piano della povertà estendiamola eh questa è stata un po' anche il nostro auspicio e l'auspicio che noi cercheremo ancora di portare avanti perché da quello che c'è si parte quindi noi abbiamo un approccio da una parte molto concreto e realistico per cui valorizziamo quello che c'è apriamo questo reddito cittadinanza cerchiamo eh di eh costruire delle soglie di accesso che ad esempio e questa guardate però è una cosa che veramente ci porta a interrogarci su quali sono le profonde contraddizioni che comunque misure come queste portano ancora con sé sul piano politico e culturale la domanda la faccio secca semplice come mai per accedere al reddito di cittadinanza bisogna ancora presentare un'idea a livello familiare perché il diritto al reddito che pure l'Europa ci garantisce a livello individuale ancora è su base familiare questa è una domanda secca che pongo così in maniera e cercherò soltanto di dare alcune articolazioni perché veramente questo significa andare al fondo di quanto tra intenzione e pratica ci sia un oiato estremamente grande variegato complesso che tocca la cultura dei nostri governi e tocca anche in un certo senso la progettualità che le nostre società da un po' di tempo non si danno e quindi non riescono a definire bene quali siano gli assi portanti verso cui muoversi e quindi torno a quello che Fabio all'inizio poneva come domanda a a Giuseppe Bronzini no il il reddito di di cittadinanza forse è stato ha rappresentato per noi eh come paese un passo verso quelle che sono se vogliamo anche appunto i pilastri sociali europei quella che è una cultura di welfare molto più ehm universalista ecco io qui tenderei a dare due risposte contemporaneamente una forse sì e l'altra forse no cioè dipende perché se noi guardiamo alla misura del reddito di cittadinanza con lo sguardo di chi a prescindere da tutta la normativa e in qualche modo osserva da un punto di vista concreto e non voglio utilizzare la parola oggettivo ma semplicemente concreto le ricadute materiali concrete che in questo caso eh ogni misura ogni misura politica ogni misura legislativa porta con sé non lo so forse no forse si tratta di risottolineare alcune gravi mancanze perché nelle foglie del terzo millennio non considerare quello che è un tema fondante e veramente in un certo senso ehm così brutale è quello di non considerare ancora ciascun singolo individuo come unità se all'interno di una comunità ma legare uomini e donne nello stesso filo ne al all'interno di un intreccio che ancora porta quindi a considerare il nucleo familiare come portatore no come detentore di un beneficio questo secondo me è una risposta che tende verso il no è un passo il reddito di cittadinanza ma forse no forse non è stato un passo che è riuscito a cogliere quella che è una delle grandi contraddizioni che ancora ci portiamo dietro forse ignorare eh quello anzi forse incoraggiare questo approccio caritatevole e familista ma soprattutto anche caritatevole per cui i beneficiari del reddito sono collegati a stretto giro tra di loro quindi questo nucleo non solo è il nucleo beneficiario ma poi anche il nucleo di responsabilità perché nel momento in cui il diciamo il il beneficiario diretto di di questo intervento non dovesse non sia mai a ragione Papi Bronzini quando dice le misure non si sono attivate perché il nostro non è un paese in cui c'è un' offerta pubblica di lavoro il nostro non è un paese in cui c'è offerta di lavoro quindi di conseguenza è evidente che poi i centri per l'impiego e le agenzie non hanno potuto attivare quelli che sono i i piani personalizzati e così via ma nel caso disgraziato in cui qualcuno avesse dovuto ricevere una chiamata dal centro per l'impiego e per ragioni x non potesse recarvisi ecco che tutta la famiglia diventa corresponsabile di questo peso e stiamo parlando di una misura quindi che secondo me per molti versi ancora non ha compiuto i passi necessari per andare nella direzione di realizzare davvero un avvicinamento del nostro welfare eh familiare familista e paternalista a quelle che sono le spinte che invece anche dall'Europa ci arrivano un'altra eh ragione per cui forse no è che è tutto sommato al reddito di cittadinanza oggi il nostro paese sta continuando ad ad aggiungere in questi tempi di pandemia dal nostro punto di vista proprio come in Italia si sono aperte molte lenti di ingrandimento su temi che vengono da molto lontano non c'è dubbio questa pandemia non ha creato nuovi problemi ha acuito i problemi che già ci sono che già c'erano che si riusciva con molta più semplicità a nascondere e ha costruito nuove domande che è diverso i problemi c'erano le domande nuove di nuovi diritti di nuove eh rivendicazioni forse oggi stanno cominciando ad avvicinarsi un po' di più allora un'altra ragione per cui forse no forse no perché eh invece di pensare a estendere il reddito di cittadinanza e quindi ampliare la platea innalzare il tetto di accesso eh cominciare a farlo diventare individuale per tutte le persone oltre una certa età ehm cominciare a dire ma per esempio banalmente leviamo la prima casa da questa come si fa a pensare ancora che la prima casa è fonte di reddito no? Io ci abito ci vivo quindi queste a queste cose invece il nostro governo i nostri eh più recenti governi hanno continuato a ragionare in maniera frammentata di nuovo una delle domande che quando ci si interroga intorno al reddito di base quindi non alla misura reddito di cittadinanza ma alla se volete all' obiettivo reddito di base quindi è quello che con sé porta un obiettivo è eh che cosa è il lavoro chi sono i lavoratori e le lavoratrici perché è chiaro che questa è una domanda che questa misura mette in discussione non la misura del reddito ma l'obiettivo del reddito di base e quindi i nostri governi hanno pensato di continuare a lavorare sulla frammentazione per cui la politica dei ristori a te sì a te no questo mese sì questo mese no lo dimostro così eh se perdi il trenta per cento sì se perdi il trenta per quanto no che cosa fa continua a scomporre continua a non guardare alla comunità della sua della società in senso eh globale non continua a guardare a quelle che sono le complesse dinamiche di entrate e uscita dal mercato del lavoro di lavoro che è riconosciuto e di lavoro che non è riconosciuto perché è chiaro che ragionare su i riders o i lavoratori delle piattaforme come lavoratori va da sé quelli sono lavoratori e lavoratrici lavorano hanno un tempo di lavoro che qualcuno gli riconosce come il lavoro ovvero hanno un datore di lavoro questa è la differenza ma in un certo senso noi oggi abbiamo categorie e categorie di precarie di precarie che sono arrivate ormai ad avere i più giovani vent'anni i più anziani cinquantacinque cinquantasei anni che di datori di lavori di lavoro ne hanno molteplici e forse un mese ce ne hanno uno o nessuno il mese successivo ce ne hanno tre e quattro dopo sei mesi possono di nuovo essere fuori da un rapporto di lavoro con qualcuno eppure continuare ad essere lavoratori e lavoratrici a pieno titolo e non sono nemmeno gli autonomi non sono gli autonomi gli autonomi sono quelli che hanno una partita IVA ma tutti i collaboratori e le collaboratrici stanno fuori da ogni ragionamento e ancora oggi i cosiddetti ristori che ragionano per categorie e per eh così status contrattuale non funzionano e di nuovo quindi forse no forse noi non siamo ancora pronti culturalmente non siamo ancora pronti dal punto di vista politico istituzionale ad accogliere quelle che sono delle domande che dal mio punto di vista invece emergono forse oggi con più chiarezza oggi forse è proprio il momento in cui le persone hanno più chiaro in mente che questa distinzione non gli corrisponde completamente che questo reddito di cittadinanza è una misura che deve essere mantenuta garantita deve essere implementata e rafforzata perché va a porsi come freno alla povertà esasperata a quella veramente che che non è più è la povertà assoluta perché i criteri a quello parlano e che per oggi c'è bisogno c'è la possibilità anche in tante forme lo stiamo leggendo di guardare a diritti economici che invece vanno a toccare strati di popolazione molto 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 diversi trasversali ed ecco perché l'idea del reddito di base individuale e questa è la prima misura prima ancora dell'incondizionalità c'è bisogno dell'individualità noi abbiamo bisogno di riconoscere ciascuno di noi come portatore e portatrice di un'istanza e anche come in qualche modo collaboratore di questa società di questa comunità abbiamo sentito fare della retorica sulla cura che veramente no ne abbiamo sentito di tutti i colori allora se prendersi cura degli altri è una responsabilità anche prendersi cura di ciascuno di noi è una responsabilità collettiva che non passa soltanto attraverso il vaccino passa attraverso eh il diritto a godere di un minimo di beneficio economico che possa corrispondere ai bisogni materiali e non materiali anche non materiali di ciascuno di noi quindi ecco perché dal mio punto di vista eh ci sono ancora oggi degli delle delle domande non risolte eh che per quanto ci si sforzi eh di di agganciarli a quello che è il piano diciamo di politiche più lungimiranti ci raccontano di un paese che fa veramente fatica a trovare il piano della proposta e il coraggio della politica ad andare in una direzione in cui il diritto è per tutti il diritto è esigibile il diritto è a prescindere dal legame con il lavoro perché il diritto è individuale e in questo senso universale di conseguenza superando anche quelli che sono gli ostacoli di accesso in termini di residenza non residenza e così via io però se volete mi fermerei così poi apriamo una discussione bene grazie Rachele per il tuo contributo che è stato davvero illuminante proseguirei a questo punto senza frapporre ulteriori commenti con Giuseppe Allegri eh sì grazie dell'occasione grazie a Fabio Marcelli e eh al CNR di questa occasione di questa discussione ehm io pure vorrei limitarmi a un intervento molto breve per eh poi magari lasciare la palla eh a Michele Gianella a Paola Boffo ehm anche per approfondire il tema della iniziativa dei cittadini europei sul eh il reddito eh di base eh universale incondizionato che è una eh iniziativa dei cittadini europei eh tuttora eh aperta e che può essere sostenuta e sottoscritta ehm direttamente in rete con estrema facilità e quindi eh è bene che eh eh si approfondisca questa occasione che permette come diceva Bronzini all'inizio di di ehm aprire eh mio dire di rilanciare ecco uno spazio pubblico europeo di discussione sull'aggiornamento del welfare eh a partire dalla eh esigenza di un eh diritto sociale fondamentale uno use existenze ecco eh Rachele Serino è stata molto molto esplicita chiara e inequivocabile il reddito di base è da intendersi come un diritto sociale fondamentale individuale questa è una tradizione che nella sua ehm come potremmo dire nella sua eh ricostruzione addirittura più sistemica eh ci riporta addirittura a Thomas Paine e alla rivoluzione francese e alla rivoluzione eh statunitense eh Thomas Paine ehm eh nel mila settecentonovantasei scrisse questo pamphlet che era titolato Agrarian Justice e e e rivendicava questa giustizia agraria a partire dal riconoscimento di una allocazione universale di un reddito di base a tutte le persone che erano state private eh della eh loro possibilità di sostentamento private della terra insomma quindi poneva una sorta di giustizia agraria come fondamento di una società giusta eh dentro l'avvento della rivoluzione francese e noi oggi dovremmo provare a dire che c'è bisogno di una digital justice che faccia leva proprio su un reddito di base al tempo del dell'epoca della società automatica come direbbe eh Stigler della 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 società digitale come vogliamo chiamarla e come eh della rivoluzione della quarta rivoluzione post industriale ecco eh come se perché e qui questa è un'esigenza che viene in realtà prima della pandemia d'accordo? Cioè la l'esigenza di sottoscrivere un nuovo contratto sociale dell'epoca digitale in cui il riconoscimento di uno use esistenzie quindi un diritto a un'esistenza degna quanto più libera quanto più ehm protetta dalle insidie della precarietà no? Di su cui insisteva giustamente per lo meno due generazioni di 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 precari e di precari nel nel vecchio continente eh rivendicano da tempo eh l'esigenza di un aggiornamento del sistema di welfare eh e dall'altra appunto riprendo quella formula dello use esistenza che è una formula che eh appunto con spesso con Fabio Marcelli con Bronzini con no abbiamo abbiamo incontrato eh eh questa formula eh a partire anche dagli scritti di 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 autori a noi molto cari eh molto vicini come Luigi Ferraioli piuttosto che 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 il grande Stefano Rodotà eh che in uno dei suoi ultimi libri il diritto di avere diritti eh sostiene ampiamente eh l'esigenza di un reddito di base come uno strumento di protezione sociale dopo la crisi della società salariale della società industriale ecco d'accordo quindi è un percorso questo che potremmo dire quello delle della manifestazione dell'esigenza della protezione di forme di vita eh dalla insicurezza dalla povertà e però anche come sistema di promozione dell'autonomia individuale ecco questa esigenza accompagna tutte le fasi potremmo dire eh di rivoluzione e o di transizione eh della modernità giuridica europea e non solo ecco questo è il il punto di partenza che ci permette eh di dire che non stiamo parlando di una eh eh prospettiva utopica ma di una esigenza che ha sempre innervato eh le trasformazioni istituzionali e trasformazioni economiche produttive e soprattutto l'emergenza eh di una rivendicazione di maggiore cittadinanza di maggiore giustizia sociale di maggiore diritti di maggiore solidarietà e quindi un dialogo tra diritti e doveri evidentemente eh in tutte le fasi di eh eh transizione di trasformazione e oggi tra l'altro io vengo da da un così eh per aggiornarci anche sulle cose che succedono in giro per la città come eh si potrebbe dire per la città globale ma anche la città di Roma dove sto io eh oggi stamattina è stato occupato il il Globe Theatre di di eh Villa Borghese il il Globe Theatre era il teatro di cui era direttore Gigi Proietti ehm eh il Globe Theatre è una è una istituzione voluta dalla dalla famiglia Totti intitolato a Silvano Totti adesso è stato intitolato a Gigi Proietti e è è stato occupato da eh diversi collettivi di lavoratori e lavoratrici del del dello spettacolo delle arti della cultura eh prevalentemente precari intermittenti che in questo ultimo anno e due mesi di pandemia eh si sono trovati nella condizione di totale esclusione dalla loro attività lavorativa e anche ehm la gran parte di loro anche di esclusione da quei bonus eh statali che abbiamo visto nella descrizione che faceva sia Bronzini che 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 era Caleserino molto settoriali e molto categoriali in cui mancava sempre qualche parte di società da essere protetta dinanzi alla crisi pandemica e della crisi sociale economica conseguente. Ecco eh la conferenza stampa che si è tenuta alle undici in cui hanno partecipato anche la figlia di di Gigi Proietti i gestori dello stesso spazio del Club Theater eh Giorgio Berberio Corsetti del Teatro di Roma e quindi anche le istituzioni si rendono conto fino in fondo della esigenza eh di eh porre il tema della eh del del lavoro intermittente del lavoro culturale e delle eh delle necessità di garanzia e di tutele di questi soggetti appunto il lo striscione che campeggiava dietro a eh gli occupanti che stavano facendo questa conferenza stampa era uno striscione che eh 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 titolava carattere cubitale universal and unconditional basic income. Ecco la eh rivendicazione di un diritto eh eh a a un eh reddito di base universale e incondizionato attraversa a nel duemilaventuno quindi oggi stesso proprio un movimento sociale che per certi versi recupera eh sapete dieci proprio dieci anni fa a giugno del duemila undici a Roma fu occupato il Teatro Valle e si avviò tutto un movimento del lavoro eh culturale del lavoro artistico in giro per l'Italia che aveva anche in quegli anni lì dieci anni fa a giugno duemila undici tra le parole d'ordini quella del reddito di base. Ora eh eh questo per dire ecco che l'occasione eh io forse per non essere lungo e tedioso eh e soprattutto perché l'ho presa da lontano perché sono risalito a Thomas Paine eh però quella era un'esigenza per dire che non 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 è un'esigenza di un reddito di base eh 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 una eh esigenza eh così campata per aria che non sta invece nella storia nella la storia a contropelo della storia europea della storia dei movimenti sociali della storia delle istituzioni della invenzione di istituzioni di protezione sociale ecco eh mi mi piacerebbe chiudere eh eh affermando che eh è possibile ehm provare a tenere insieme così faccio una sintesi improbabile delle due relazioni delle due belle relazioni che mi hanno eh preceduto eh quella un pochino più ottimistica di Bronzini sul versante europeo quella ragionevolmente meno ottimistica dire che Serino su come è stata gestita la protezione sociale eh nell'epoca pandemica da parte delle nostre istituzioni ecco è possibile eh accordarsi su questo probabilmente sulla necessità ecco di prendere questa tra virgolette appunto occasione drammatica tragica occasione costituente della crisi pandemica eh eh per dire fino in fondo eh che eh le insufficienze di quel sistema di welfare che erano insufficienti già precedentemente diciamo alla crisi pandemica eh devono essere ribaltate fino in fondo e c'è la possibilità di ribaltarle perché tutti i soggetti sociali e istituzionali eh 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 prendono coscienza ecco della impossibilità di tornare a un sistema di welfare come quello precedente e l'occasione secondo me deve essere colta fino in fondo dal fatto che eh a livello continentale fino alla fine del 2022 tutti i parametri che hanno ingabbiato le politiche pubbliche continentali nella cappa dell'austerity ecco tutti quei parametri lì dal patto di stabilità in poi eh sono sospesi d'accordo le istituzioni eurounitarie stesse si sono accorte che c'è bisogno di un intervento pubblico maggiore di quel pilastro sociale dei diritti del pilastro europeo dei diritti sociali ma soprattutto dell'intervento di strumenti di protezione sociale e che ci facciano fare un passo in avanti dopo la tradizione potremmo dire no del sistema dell'assicurazione sociale dopo il sistema pensionistico insomma è un sistema un'assicurazione sociale per l'epoca potremmo dire digitale e per l'epoca auspicabilmente post pandemica eh sarebbe un errore non prendere sul serio questa finestra che ci si apre fino alla fine del 2002 una finestra che va in contemporanea anche con l'inaugurazione della conferenza sul futuro dell'Europa che partirà il nove maggio prossimo eh il 7 maggio ci sarà il summit di Oporto che sarà un social summit delle delle istituzioni dell'Unione Europea e anche lì bisognerà porre come opinione pubblica il tema della della del radito di base delle garanzie di base e e ancor più nella conferenza sul futuro dell'Europa io credo che l'occasione anche della iniziativa dei cittadini europei lo dirà meglio Michele Gianella possa essere un'occasione di rilancio di questo tema anche sulla conferenza sul futuro dell'Europa e e passerei così la palla a a a Paola Boffo a Michele Gianella che eh sicuramente da una parte lisce e l'inzietto di ma dall'altra anche la prospettiva di di un di politiche di coesione sociale più evolutive a livello continentale eh penso che sia l'esigenza eh eh quotidiana e reale ecco sulla quale ragionare anche dal punto di vista dei studiosi del diritto internazionale del diritto dell'Unione dell'Unione Europea del diritto euro unitario diciamo così seppure in una prospettiva di dialogo col diritto costituzionale nazionale non tanto di conflitto ma quanto di acquisizione evolutiva dei diversi livelli di governo. Grazie scusatemi per la lunghezza. Grazie a te Giuseppe allora tu hai chiamato in causa esplicitamente Paola e Michele non so chi voglia intervenire. Buonasera a tutti grazie dell'invito a questo incontro io mi mi chiamo Michele Gianella ehm ho iniziato a interessarmi del tema del basic income circa sette anni fa dopo aver tradotto un libro sulla disoccupazione digitale che mi che mi allarmò immediatamente in fase di lettura e poi successivamente nel corso degli anni in cui vedevo realizzarsi gran parte delle ehm delle previsioni che quel libro conteneva. Ah cominciai così a a interessarmi a quelle che sembravano le soluzioni possibili per anticipare questo futuro e il reddito di base mi sembra fin da subito per quanto apparentemente folle la proposta più più razionale e credibile. Entra in contatto con con la comunità di sostenitori del dell'idea che ai tempi parliamo del duemilatredici stava emergendo e scoprì che già allora c'era stata una prima iniziativa cittadina europea che era partita all'inizio del duemilatredici ehm e che chiedeva sostanzialmente si limitava a chiedere uno studio di fattibilità alla Commissione Europea per l'introduzione del reddito di base nei vari eh paesi dell'Unione. Quell'iniziativa non ebbe successo per tutta una serie di ragioni un po' per eh in preparatezza culturale un po' per ragioni squisitamente tecniche legate anche alla alla raccolta delle firme. Comunque mh la comunità la comunità di sostenitori europei continua a restare in contatto e quando nel duemiladiciannove si parlò di fare una riunione a Vienna per preparare una seconda iniziativa cittadina europea questa volta non su uno studio di fattibilità ma proprio per chiedere alla Commissione Europea la sua introduzione ehm mi uni volentieri e presi la e presi la rappresentanza per l'Italia. Quello che crediamo che chiediamo è un l'introduzione a livello comunitario di un basic income nella forma in cui è stata mh formalizzata tra gli altri da Van Parais che è già stato citato ehm che lo differenzia anche dalle varie forme degli vari schemi di reddito minimo garantiti e anche del del reddito di cittadinanza in vigore in Italia. Cioè un un reddito versato da una comunità politica di solito lo Stato ma in questo caso sovranazionale in Europa eh uguale individuale senza controllo delle risorse senza eh e senza esigenze di di contropartite. Con la sola caratteristica avrebbe eh questa volta che il reddito non sarebbe uguale per tutti i membri della cittadine per tutti i cittadini della comunità europea ma sarebbe differenziato da paese a paese ehm armonizzato a livello dei prezzi all'interno del al livello del singolo paese. Questo per sostanzialmente per armonizzare per ridurre le diseguaglianze nelle condizioni di vita tra i tra i vari paesi e questo indica ovviamente una una diversità negli importi per cui il reddito accettabilmente minimo per un francese molto diverso da eh da un bulgaro come è stato come è stato detto prima. Parlando di numeri eh è necessario superare un un cuore un minimo nazionale e un cuore un minimo comunitario. In particolare perché l'iniziativa sia efficace cioè perché la perché la Commissione Europea sia tenuta a prendere in considerazione la nostra proposta è necessario raggiungere collettivamente all'interno del continente un milione di firme. Eh questo questo milione di firme però non è liberamente componibile. In particolare sette paesi della comunità europea che combinati ehm comprendono il settanta per cento della popolazione devono ehm devono superare il il quorum minimo delle firme previste nel loro paese. Il quorum minimo è una funzione del numero degli europarlamentari in particolare sono il numero degli europarlamentari moltiplicato per settecentocinquanta e nel caso del dell'Italia parliamo di poco meno di cinquantaquattromila firme per esattezza cinquantatremila ottocentocinquanta ehm con un obiettivo che invece è una che è un altro parametro che è una funzione del peso demografico dei vari stati che per l'Italia è cinque il doppio quindi diciamo così che per usare una formula sintetica per fare il nostro dovere di eh di cittadini europei dovremmo raggiungere in in Italia eh cento un importo per circa centotre a centoquattromila firme. Ehm l'iniziativa è partita il venticinque settembre sarebbe dovuta durare un anno però eh sono già state concesse due proroghe di 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 tre mesi l'una quindi terminerà al salvo ulteriori rimandi a marzo del duemila e due in ragione delle mh evidenti condizioni di forza maggiore che ci sono attualmente. Per quanto riguarda invece un un giudizio sul successo corrente dell'iniziativa l'iniziativa è partita con dei risultati molto incoraggianti. Per farvi per darvi un termine di paragone la prima iniziativa che si tenne nel nel duemila tredici e che aveva più o meno degli obiettivi di firme paragonabili perché la popolazione italiana è più o meno quella in realtà riuscì a raccogliere soltanto quattromila trecentottantuno firme in tutto un anno. Questa volta grazie a una campagna di comunicazione anche molto più intensa e più efficace collaborazione anche di di binitalia che colgo l'occasione di ringraziare abbiamo raggiunto questo questa stessa soglia di firme questa stessa montare di firme in ventidue giorni e mezzo. Quindi i tempi da questo punto di vista sono molto più favorevoli all'accettazione. La vera sfida per passare dalle quattromila quattrocento firme di di allora alle cinquantamila del quorum e alle centomila degli obiettivi ehm è ancora però naturalmente tutta da tutta da scoprire. In particolare ci sono diverse questioni di cui essere consapevoli e su cui eh orientare i propri sforzi mirati. In particolare bisogna quello che sarà necessario fare per raggiungere queste per raggiungere questo livello di firme sarà non solo cercare di convincere persone eh scettiche o o apertamente ostili all'idea del reddito di cittadinanza ehm ma ce ne sono poi ci ce ne sono anche altre. In particolare ho notato che esistono ehm un fenomeno che diciamo così di di selezione avversa. In in altre parole c'è un'estesa platea di potenziali beneficiari di una misura del genere che però eh nelle per le condizioni di vita che hanno eh restano tendenzialmente tagliati fuori dai canali di comunicazione attraverso quale il messaggio viene passato. pensate non lo so a tutte quelle persone eh anziane o o condizioni vicino sotto la soglia di povertà che non hanno accesso a un a un computer a strumenti di comunicazione digitale che sono quelli in cui per forza di cose adesso passa quasi tutta la comunicazione perché non riusciamo a fare iniziative in presenza e che però sarebbero i i diretti maggiori beneficiari di un'iniziativa del genere se se si riuscisse a raggiungere. Poi esiste poi sarà necessario coinvolgere ehm altre realtà associative e organizzative che sono favorevoli a delle misure meno audaci diciamo così di di sostegno alla disoccupazione di sostegno alla povertà ma non drastiche appunto come il come reddito di base eh o perlomeno non fino ad ora. In questo momento uno sforzo in questo senso è stato fatto con tutta quella rete di associazioni eh che va con il nome di di alleanza contro la povertà e personalmente sto anche tessendo delle relazioni con una parte dell'associazionismo ehm dell' associazionismo cattolico soprattutto in luce del fatto del del recente sorprendente sostegno del pontefice a una alla alla misura del reddito universale di base in chiusura del in in chiusura del del suo libro ehm per il momento siamo arrivati la la quantità di firme raggiunta adesso è di circa venti siamo non lo voglio contare siamo dodicimila firme di cui le ultime tre ho controllato mentre gli altri speaker stavano parlando quindi abbiamo un riscontro in tempo reale della dell'iniziativa e e abbiamo ancora un anno e mezzo quindi per raggiungere circa il settantacinque per cento delle firme necessarie. Io per il momento mi fermerei e proverei per per illustrare per riepilograre meglio i dettagli se possibile proverei a lanciare questo filmato dimostrativo di tre minuti che contiene tutte le informazioni necessarie è liberamente consultabile condivisibile su youtube e contiene anche il link diretto negli ultimi istanti il link diretto e un codice qr che si può anch'esso liberamente condividere. Oggi l'austerità sembra essere la sola risposta per risolvere la crisi economica europea le persone si stanno impoverendo sempre di più. Automazione nella manifattura e l'accumulazione della ricchezza delle istituzioni finanziarie stanno cambiando il nostro approccio al lavoro si produce sempre di più con meno e meno persone i tassi di disoccupazione sono saliti alle stelle e il lavoro salariato non è più un diritto per tutti. La buona notizia è che le società umane non hanno mai generato così tanta ricchezza ma mentre questa ricchezza è prodotta grazie al lavoro di molte generazioni questa è inegualmente distribuita ai cittadini. Noi come cittadini europei proponiamo un'alternativa non è un'idea nuova ma ora è giunto il tempo di metterla in azione. Quest'idea si chiama reddito di base incondizionato. Ne hai mai sentito parlare? L'articolo 25 della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo dichiara ogni individuo ha il diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio della sua famiglia con particolare riguardo l'alimentazione al vestiario all'abitazione alle cure mediche e servizi sociali necessari e ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione. Questo è quanto il reddito di base dovrebbe essere universale, individuale, incondizionato ed elevato abbastanza per assicurare un'esistenza degna ed una partecipazione nella società. Questo nuovo diritto fondamentale per l'umanità non solamente potrebbe sradicare la miseria ma potrebbe essere una via allo sviluppo delle attività non mercificate, artistiche, familiari e volontarie. Ma sarebbe anche una misura economica. Un reddito di base per tutti significerebbe un supporto per l'economia locale. Finalmente ci permetterebbe di esercitare la nostra piena cittadinanza. Come possiamo finanziarlo? Noi abbiamo differenti proposizioni, tassazione sulle transazioni finanziarie sugli alti redditi, una tassa sulla consumazione dei beni di lusso e prodotti inquinanti e soprattutto attraverso una semplificazione di una lunga lista di allocazioni sociali esistenti, le quali sono oramai diventate obsolete. Quello che noi proponiamo sarebbe più semplice, equo e trasparente. Ciascuno riceverebbe un reddito di base senza nemmeno chiederlo. Ma poi, naturalmente, dipende da voi se lavorare per avere un complemento. Noi, come cittadini europei, abbiamo lanciato una campagna ufficiale chiamata Iniziativa Cittadina Europea, per fare esaminare il nostro manifesto alle istituzioni. Quindi, come bisogna procedere? Prima di tutto, dobbiamo superare una soglia minima di firme in sette paesi. 15 paesi si sono già giunti alla campagna e si stanno preparando per raccogliere. Speriamo che altri paesi ci seguano. La Commissione Europea dovrà considerare le nostre proposizioni quando aggiungeremo il milione di firme richieste. Se accettate, cominceranno una serie di studi sui differenti modelli e sugli importi del reddito di base. Mobilizziamoci, organizzando eventi, creando gruppi locali, per far crescere a quest'idea attorno a noi e in Europa. Grazie della vostra attenzione. Visitate il sito eci-ubi.eu e firmate la nostra iniziativa. Sì, benissimo. Mi pare un ottimo video molto preciso e sintetico che dovremmo sicuramente provare a diffondere, anche per raggiungere poi questa soglia delle centotremila, mi pare di capire, firme a livello nazionale, dalla quale ancora non siamo troppo vicini a quanto capisco da quello che tu ci dicevi. Insomma. Esattamente. Abbiamo, come sono solito dire, abbiamo tanto tempo ma sarebbe meglio comportarsi come se ne avessimo poco, anche perché ci sono tutte queste specifiche difficoltà, ci sono difficoltà storiche pregresse e difficoltà nuove. L'altra cosa a cui volevo accennare brevemente prima e che poi in realtà mi è tornato in mente mentre facevo partire il video, è che sorprendentemente ci sono diverse associazioni, singoli intellettuali che mostrano una sincera difesa all'idea del reddito di base in generale, ma una particolare resistenza a diffondere questa icce specifica, probabilmente dovuta al fatto che magari non conoscono non conoscono chi, non conoscono me o i i loro diretti promotori. Questo è un problema che si risolve con l'endorsement di un'istituzione famosa e reputata, in cui in questo senso quindi saluto con particolare piacere l'attenzione del CNR ad un tema del genere e ringrazio particolarmente questo invito. Il futuro non sarà noioso. Vi aggiorno prossimamente. Benissimo, grazie Michele, vuole un contributo molto efficace, molto concreto. Ricordo che chiunque volesse porre delle domande ai nostri relatori o più in generale lo può fare come di consueto scrivendolo in calcio al video YouTube che che stiamo proiettando mentre si svolge a questo incontro. Ci ho detto, darei senza tutta la parola a Paola Boffo che anche lei fa parte della rete italiana Basic Income Network. Prego Paola. Sì, buonasera a tutti. Faccio parte, diciamo, più che altro per affezione della rete sicuramente. Abbiamo associato con l'occasione. In realtà lei fa parte di Transforma. Transforma Italia che è una porzione italiana in Europe. Tra l'altro è anche aderito chiaramente e diffuso, contribuisce a diffondere l'iniziativa dei cittadini europei che è stata raccontata molto bene da Michele Giannelli. Allora, vabbè, molte cose sono state dette chiaramente. La prima è che ci troviamo in questa situazione in cui la pandemia ha causato tutta una serie di gravissime problematiche, evidentemente, soprattutto sul piano sanitario, ma sul piano sociale, sul piano economico non ha fatto che approfondire e aggravare, come ha già accennato la tele Serino prima, situazioni che erano già esistenti e che tutti, diciamo che tutti conoscevamo e su cui almeno fra di noi avevamo già, stavamo già provando a lavorare da tempo. E mi riferisco evidentemente in primis alla questione della precarietà e cioè alla composizione del mercato del lavoro che chiaramente è attualmente molto diverso da quello di anche soltanto vent'anni fa e che poi si è manifestato appunto nel modo più lampante con questo accadimento quando tutto all'improvviso un anno fa, poco più di un anno fa, si è fermato e si è resa ancora più evidente la differenza, diciamo, fra i lavoratori sostanzialmente garantiti da un sistema di protezione sociale dei lavoratori dipendenti e tutti gli altri lavoratori non dipendenti, diciamo, per mettere tutto in una sola definizione, che non potevano soffrire di tutti gli ammortizzatori sociali, insomma, sostanzialmente, e che si sono trovati all'improvviso senza un lavoro e senza un reddito. Come è stato già detto, i lavoratori dipendenti hanno potuto soffrire della cassa integrazione Covid finanziata appunto dall'iniziativa SURE adottata in tempi molto rapidi, bisogna riconoscere da parte della commissione. e mentre dall'altro lato tutti gli altri si sono ritrovati appunto senza reddito e senza la possibilità, senza avere, diciamo, un paracadute sostanzialmente, come quello della cassa integrazione, e quello che potrebbe essere invece un reddito di base. Ci sono stati con il decreto Cura Italia, decreto Rilancio e tutti gli altri che sono stati già citati in precedenza, una serie di iniziative governative, i cosiddetti ristori, che però hanno avuto la caratteristica della frammentazione, che rispondeva alla frammentazione appunto di questa parte, diciamo, del mercato del lavoro molto diversificata, molto differenziata, con tante diverse caratteristiche, diciamo, in termini di forme contrattuali, di tipologie di lavoro, anche sul piano settoriale. e ci sono stati tutti i ristori. Io, diciamo, qualche mese fa ho contato una, fra i 19-20, forse di più, tipologie di ristori che sono stati inventati. e sono stati inventati con tutte le difficoltà del caso, e cioè, si è dovuta mettere in piedi una macchina in corsa, evidentemente, per la definizione di questi strumenti, per l'attuazione, per organizzare tutto il sistema delle domande, della valutazione, delle erogazioni, che è stato molto complicato, molto oneroso, e tra l'altro anche messo nel mirino, diciamo, da parte della stampa, da parte di chi era anche sostanzialmente contrario a questo tipo di erogazioni. Bene, c'è stato nell'estate, fra luglio ed agosto, una campagna contro l'Inps e contro il suo presidente, perché c'era il ritardo nelle erogazioni, eccetera. Per fortuna, avevamo il reddito di cittadinanza, che comunque ha arginato moltissimo per tutti i destinatari, per tutti i percettori, questa situazione di crisi. 19-20 misure non sono state sufficienti, tant'è vero che poi, se è reso necessario, inventarsi il reddito di emergenza, e anche di questo abbiamo parlato. Allora, anche questo, anche soltanto al di là di tutte le altre caratteristiche che sono state già esplicitate prima, e quindi non è il caso di tornarci, ma anche soltanto dal punto di vista della macchinosità, di mettere in piedi un sistema di erogazione, di un'agevolazione, appunto, che necessita di valutazione, presentazione, domanda, sulla base dell'Isee che si riferisce ai redditi degli anni precedenti, e quindi, naturalmente, il momento in cui succede un'epidemia, viene la crisi e mi crolla il reddito in questo momento, magari io, l'anno precedente, ho avuto un reddito più alto, non ho diritto a percepire nessuna sovvenzione. Insomma, ci sono una serie di ragioni che, fra tutte le altre che sono state citate, renderebbero evidente la necessità di arrivare invece a una misura di reddito di base. incondizionato, perché, come è stato detto, vabbè, di questo probabilmente si sta anche cominciando a discutere, forse adesso con la nuova commissione che è stata costituita dal Ministro Orlando, perché è legata alla ricerca del lavoro, ma il lavoro non c'è, quindi, diciamo, è molto difficile collegare le due cose, ma è soprattutto, in principio, una cosa non giusta. Il reddito di cittadinanza, quello vero, ma anche, diciamo, questa forma che abbiamo in Italia, è prima di tutto destinato all'affrontare il problema della provertà e quindi all'inclusione sociale. La questione del lavoro è anche nel piano, nei progetti, diciamo, europei. In qualche caso l'erogazione del reddito è condizionata, però più che altro i percorsi di accompagnamento al lavoro sono un accompagnamento rispetto all'erogazione monetaria. Oggi, tra l'altro, proprio poco fa, è stato presentato il rapporto dell'Ocse sul rapporto, adesso non ricordo bene come si chiama, per la ripartenza, in ambito, credo, del G20, che si sta svolgendo in questi mesi, che ha sostanzialmente apprezzato le misure mise in atto in Italia, parlando veritale chiaramente, fra il 2019 e il 2020, e in particolare ha apprezzato anche il reddito di cittadinanza come strumento di protezione sociale, appunto, perché ha migliorato il sistema di protezione sociale in Italia, ha fatto uscire, in effetti, dalla povertà. Non ricordo i numeri, però comunque è una quota importante delle persone a rischio di povertà. Tuttavia, mentre apprezza questa misura, l'Ocse dice che comunque sarà necessario introdurre significativi miglioramenti, perché ritiene che il livello del reddito in Italia è troppo alto e quindi crea cosiddetti effetti spiazzamento, diciamo, rispetto alla ricerca di lavoro, alle opportunità di lavoro, perché diciamo che quello dovrebbe essere una delle finalità del reddito minimo garantito, quello di elevare, di migliorare la capacità negoziale sul mercato del lavoro e quindi elevare il livello del salario, ma questo evidentemente non è una cosa che viene apprezzata, almeno dall'Ocse. e quindi bisognerebbe appunto migliorare i percorsi per la profilazione dei percettori e quindi per la capacità di accesso al mercato del lavoro. La pandemia quindi ci ha fatto trovare in questa situazione. va detto anche che la frammentazione che esiste nel mercato del lavoro e quindi nella risposta delle istituzioni pubbliche a queste esigenze di reddito dovrebbe essere superata sul piano invece delle rivendicazioni. Oggi, l'ha detto Giuseppe Allegri, c'è stata questo evento, questa preoccupazione, quindi poi questa manifestazione da parte dei lavoratori dello spettacolo che chiedono reddito di base universale incondizionato, soprattutto mettendo l'accento sulla continuità, perché appunto quello è uno dei settori in cui c'è maggiore discontinuità del lavoro. però sarebbe importante che tutte queste rivendicazioni non fossero soltanto settoriali ma come invece era accaduto all'inizio della pandemia, ma fossero invece rese più organiche rispetto a un obiettivo comune che è quello di cui stiamo discutendo. Peraltro nella pandemia ci troviamo in una situazione di transizione molto importante. Sappiamo che se ne è parlato molto, il recovery plan sta per essere presentato in Parlamento, il 26 sarà presentato in Parlamento, per chi dovrà essere presentato entro il 30 aprile alla Commissione. Il recovery plan, in generale Next Generation EU, è orientato alla transizione, diciamo, su due pilastri fondamentali che sono la transizione verde e la transizione digitale. e però nella transizione verde e nella transizione digitale sono percorsi, sono percorsi diciamo trasversalmente da una transizione dell'economia e del lavoro in generale che anche questa viene dal passato e però è stata moltissimo di molto accelerata con la pandemia. L'Europa, la Commissione, insomma, ha anche promosso il programma che si chiama Just Transition, cioè il programma per una transizione giusta, che è destinato soprattutto a quei paesi e quelle regioni dove è più presente l'economia cosiddetta carbonizzata e quindi è finalizzata la decarbonizzazione dell'economia nell'ambito appunto del Green New Deal. In Italia questo programma interessa due aree, che sono l'area di Taranto e l'area del Succis in Sardegna e serve per accompagnare, diciamo, finanzia delle azioni di accompagnamento alla transizione, alla chiusura delle fabbriche inquinanti, per dirla in modo un po' grezzo, e accompagnamento verso altri tipi di lavoro e anche altri tipi di società in qualche modo. Quello che voglio dire è che siamo di fronte a una situazione in cui tutto quello che abbiamo vissuto in questo anno, a cui più di un anno, e che era già presente prima, non è che l'inizio di una transizione molto importante sul piano economico, di conseguenza sul piano sociale, che richiede, a mio parere, ma al nostro parere, probabilmente, questo strumento di supporto per rispondere innanzitutto a una domanda, appunto a un diritto universale e che dovrebbe essere universalmente riconosciuto. qui, su questo, un po' la domanda che faceva all'inizio Marcelli, quanto sarebbe universale questa misura, io l'ho letta anche sul piano globale, no? Cioè non soltanto in Italia, non soltanto in Europa, adesso non stiamo parlando dell'Europa, però poi c'è il resto del mondo. E su questo non mi esprimo, però sicuramente, insomma, la tematica è molto ampia, perché poi questa trasformazione dell'economia, la digitalizzazione, eccetera, è una cosa che riguarda molto i paesi avanzati, ma nei paesi meno avanzati, invece, c'è stato sostanzialmente un trasferimento del lavoro, come dire, nero, non nel senso di irregolare, ma nel senso, diciamo, dei lavori più sporchi, più, appunto, quello che è all'opposto del lavoro digitale, diciamo così, nei paesi più arretrati. Abbiamo, vabbè, di recente questa vicenda tragica del Congo, no? In cui ha perso la vita il nostro ambasciatore, ha riportato alle cronache la situazione di un paese dove moltissima parte della popolazione vive bene al di sotto il livello della povertà e vive in tipi di lavoro, cioè, appunto, i bambini che estraggono i minerali che servono per i nostri cellulari. Vabbè, questa è una cosa un po' retorica, però, di fatto, poi, la situazione è esattamente questa. E, dal punto di vista dell'intervento, diciamo, delle politiche europee più in generale, la Next Generation EU è una grande, ma abbastanza, diciamo, una svolta abbastanza importante, è stato detto all'inizio da Giuseppe Bronzini, perché per la prima volta l'Europa si indebita solidalmente sul mercato per trovare fondi per finanziare la ripresa e la resilienza in Europa. Si indebita e utilizza questi fondi, peraltro, anche in modo solidale, nel senso che questi fondi sono ripartiti ai paesi sulla base dei bisogni dei paesi, cioè i paesi che si trovano in una situazione più grave dal punto di vista economico, dal punto di vista della disoccupazione, soprattutto, e l'Italia è la prima, perché percepisce, percepirà, probabilmente, circa il 28% di questi fondi, ricevono, appunto, la maggior parte dei contributi e sostanzialmente, in questo senso, si opera una sorta di trasferimento, no, dai paesi più ricchi ai paesi più svantaggiati. Si è parlato molto, contemporaneamente, al Next Generation, appunto, ci sarà in campo anche tutta la politica di coesione del nuovo settennio 2021-2027 e anche in quel caso di quello non si parla tanto, però si tratta comunque di finanziamenti molto consistenti che portano all'Italia circa 43 miliardi nei sette anni. Su questo, ma non è questa la sede per approfondire, c'è un grossissimo problema di capacità amministrativa, cioè di vedere se effettivamente i paesi, in particolare l'Italia, che non ha una buona performance, diciamo, da questo punto di vista, riusciranno a utilizzare queste risorse e a spenderle bene, soprattutto a spendere per gli obiettivi per le quali sono date queste risorse. E quindi tutto questo sistema di Next Generation è condizionato, giustamente condizionato, soprattutto perché deve essere speso appunto in prevalenza, il 70% in investimenti pubblici, ma è anche condizionato alle strategie per la transizione verde, alle strategie per la transizione digitale, ma è anche collegato, per esempio, all'attuazione e al rispetto del pilastro dei diritti sociali. Quindi, diciamo, in qualche modo tutto si tiene, no? Giuseppe Allegri prima citava il forum di Porto, che ora è il 7 maggio, dove si avvia, dopo quest'evento appunto e la pandemia, ci si ritrova a discutere di quello che dovrebbe essere l'Europa sociale. Come sappiamo, l'Unione Europea non ha competenza, diciamo, in senso stretto, su questi settori, insomma, sulle politiche sociali. E poi ci troviamo in una situazione in cui gran parte delle politiche vengono decise e vengono attuate prevalentemente sulla base di un approccio non antigovernativo, ma intergovernativo. E cioè, sulla base dell'accordo fra gli Stati in seno al Consiglio europeo, che è abbastanza lontano da invece l'approccio comunitario che dovrebbe prevalere se volendo appunto muoversi verso un'Europa sociale di cui abbiamo parlato. e allora sarebbe effettivamente molto opportuno presentarsi, diciamo, in sintesi, a Oporto con una posizione condivisa su queste tematiche. sulla questione della reddito di base veniva prima menzionato un paio di volte stata menzionata la proposta di Van Paris e cioè di una erogazione da parte della Banca Centrale Europea. in effetti la Banca Centrale Europea come sappiamo ha reagito, diciamo, ha agito abbastanza bene in questa circostanza perché comunque ha garantito la copertura del, sostanzialmente ha garantito la copertura del debito da parte degli Stati, ha acquistato diciamo il debito degli Stati mantenendo quindi bassi i tassi e quindi la possibilità per gli Stati di approvvigionarsi delle risorse che sono necessarie per finanziare le politiche fiscali che comunque sono molto massicce e sono state molto massicce. e già da dall'era Mario Draghi la Banca Centrale aveva operato questa quantità di vising destinato erogando una quantità enorme di finanziamenti alle banche. Allora diciamo si dovrebbe passare a quantità di vising for the people e quindi con un'erogazione fatta sui conti correnti direttamente diciamo delle persone a livello individuale appunto. Dopodiché così come ci ha raccontato Michele a proposito dell'ICE si potrebbero trovare tante formule anche di differenziazione e una delle cose che si potrebbe immaginare è che se la Banca Centrale eroga un assegno diciamo a tutti i cittadini europei in modo indifferenziato si potrebbe immaginare che poi per i cittadini che hanno al di sopra di un certo reddito e percepiscono un reddito al di sopra di una certa soia per esempio queste risorse potrebbero essere recuperate sul piano attraverso gli strumenti fiscali nel periodo di imposta successivo all'interno dei paesi quindi anche finanziando gli stati membri su queste diciamo si potrebbe discutere si potrebbe lavorare tanto e poi più in generale mi piace pensare a un patto di stabilità sociale o un patto sociale di stabilità che sostituisca quello esistente che come sappiamo è stato bloccato all'inizio dell'emergenza con l'applicazione della clausola di salvaguardia ma che come una spada di Damocle resta sulle nostre teste vediamo almeno fino a tutto 2022 ci ha assicurato Gentiloni dovrebbe essere comunque congelato però non è stato sicuramente cancellato potrebbe essere ridiscusso nell'ambito della conferenza sul futuro dell'Europa e però sarebbe nel percorso diciamo verso un'Europa più sociale sarebbe molto utile che agli obiettivi del deficit e del debito venissero sostituiti gli obiettivi della occupazione e della cobertà anche diciamo semplicemente emendando l'articolo 126 del trattato sostituendo soltanto poche parole si riuscirebbe a a rivoluzionare effettivamente le cose nel senso di un'Europa sociale con un approccio effettivamente comunitario mi fermerei qua bene tante belle idee in particolare questa di far finanziare la banca intera europea mi pare un'ottima idea il problema è che come sappiamo ci sono dei limiti previsti dei trattati che sono limiti molto rigidi rispetto a quello che può essere l'azione di questo organismo e quindi se volessimo realmente mettere in campo tutti gli strumenti operativi di cui l'Europa potrebbe disporre è necessario anche sul piano meramente istituzionale non dico una rivoluzione ma quantomeno un grosso cambiamento insomma di tutti i parametri possibili comunque mi pare che il nostro incontro sia stato molto istruttivo finora in quanto che abbiamo rinucleato alcuni caratteri di fondo che deve presentare questo video di base abbiamo detto che deve essere universale deve essere individuale deve essere incondizionato se poi andiamo a vedere nella prassi legislativa dei paesi che finora hanno valuto misure di questo tipo in realtà poi questo è un modello dal quale temo siamo ancora piuttosto lontani comunque i modelli servono appunto per poi ispirarvi e cercare di avvicinare la realtà attraverso opportune iniziative ma ecco di quali strumenti abbiamo bisogno concretamente per portare avanti questo genere iniziative chiediamo a Sandro Cobetti che ci parlerà anche di quello di altro di quello che vuole lui però io volevo porre in particolare questa domanda che strumenti ci sono a disposizione del comune cittadino italiano europeo o di altri paesi per portare avanti questo tipo di obiettivi prego Sandro intanto grazie di aver organizzato questa interessante iniziativa in questo interessante incontro spero che avremmo anche modo di farne ulteriori per approfondire tutto ciò che non siamo usciti ad approfondire oggi sulla domanda specifica sicuramente quella del lice è un'iniziativa che può coinvolgere tutti a tal proposito ricordo che sì è vero che nel 2013 raccogliemo comunitaria 4.000 firme ma va ricordato che si raccoglievano solo esclusivamente a mano e andavano validati tutti quanti al ministero degli interni fu un lavoro assurdo ora finalmente dopo quanto ci abbiamo messo 6 anni anche in Italia possiamo raccogliere online infatti ne abbiamo 11.000 sono purtroppo poche come diceva prima Michele Giannella abbiamo ancora un anno davanti quindi speriamo di arrivare ad una buona cifra almeno superare quella del 2013 se non addirittura arrivare al milione in questo senso l'idea del milione di firme del lice del lice del cittadino europei ci collega anche a alcune analisi fatte sul reddito di cittadinanza perché a differenza appunto si ricordava prima l'iniziativa del 2013 intendeva avviare degli studi di fattibilità questa volta si intende avviare redditi di base nei paesi e la congiunzione diciamo la connessione con il reddito di cittadinanza c'è tutta perché potrebbe essere proprio la misura del reddito di cittadinanza ad essere la formula italiana diciamo così del reddito di base in condizione universale anche in alcune cose che diceva prima Giuseppe Bronzini appunto anche se fosse solamente nella diciamo nella definizione di alcuni target quindi di definire alcuni target ma cominciare ad avviare questo questo strumento va detto però che noi quando abbiamo diciamo così è stata introdotta la legge sul reddito di cittadinanza abbiamo mi ricordo diciamo elaborato un documento un comunicato in cui salutavamo con qualche ovviamente soddisfazione diciamo l'introduzione della cittadinanza dicevamo comunque che la battaglia per il reddito continua perché perché noi abbiamo in qualche modo come associazione affrontato sempre il tema del reddito su questi due fronti da una parte il reddito minimo garantito dall'altra parte quindi in particolare sugli schemi di reddito minimo europei dall'altra parte il reddito di base universale incondizionato perché perché in sostanza la chiave europea cioè degli schemi europei ci aveva diciamo come dire consegnato una chiave interessante per rompere questa idea della utopia io ricordo che nei primi anni 90 quando si parlava di reddito di base universale incondizionato eravamo appunto poche neanche arrivavamo una decina di persone in tutta Italia e gli strumenti e la chiave in particolare degli schemi europei di reddito minimo ci dava invece l'opportunità di dire che era possibile ciò che noi andavamo proponendo non era una questione peregrina i molti che all'epoca giravano per l'Europa con l'Inter rete soprattutto giovani eccetera conoscevano perfettamente ciò di cui discutevamo perché moltissime persone andavano in Inghilterra diciamo così prendevano il sussido di disoccupazione la famosa doll Lincoln Mellowence e tornarono in Italia e dicono ma guardate che i reati disoccupati danno anche dei soldi ecco questa chiave fu per noi molto utile per rompere diciamo questo meccanismo dell'impossibilità e arrivando al 2019 appunto l'introduzione di radici di finanza il fatto di trovarsi in fila la posta l'ufficio postale il cartello sportello radici di finanza era qualcosa che nei primi anni 90 neanche immaginavamo quindi io penso che abbiamo fatto dei passi e dei progressi enormi tuttavia stiamo all'oggi l'oggi ci dice che per esempio e qui sinceramente diciamo apro una riflessione che poi magari possiamo affrontare successivamente ma la lancio così noi abbiamo avuto effettivamente sui dati Istat del 2019 un abbassamento di circa un 3% dell'incidenza sulla povertà in Italia tenuto conto che questo era diciamo così l'avvio proprio della 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 dell'introduzione della legge vatici di rinalza teniamo conto che il primo mese sono arrivate 890.000 domande sono un numero altissimo per un mese solamente quindi pensate che il ritardo aveva l'Italia se pensiamo alla famosa commissione Onofre del 96 che diceva che eravamo in ritardo nel 96 nel 2019 il ritardo diciamo ha attraversato diverse generazioni visto che prima si è parlato di generazioni precarie tra i 25 e 55 anni diciamo che una buona fetta di quelle della mia età e altri non hanno conosciuto assolutamente alcuna forma di sostegno però diciamo così che si è arrivati ad una cifra di circa 3 milioni qualcosa di persone hanno ricevuto almeno una mensilità nel corso di questi anni il problema è che però siamo ad all'attuali diciamo dati che emergono in questi ultimi giorni e si è diciamo così l'incremento della povertà assoluta è aumentato in Italia di un altro milione di persone la cosa interessante purtroppo è che di questi qui c'è una altissima percentuale in nord Italia e circa 720 di cui il 9,3% delle famiglie diciamo di incremento di aumento di povertà in Italia malgrado la decennanza vedono un lavoratore in famiglia quindi capite che parliamo di working pool cioè di gente che in qualche modo sta già al lavoro questo è diciamo un dato sul quale non si può non riflettere perché nel pieno della pandemia come associazione abbiamo chiesto ufficialmente abbiamo raccolto su questa richiesta circa 12 mila firme e centinaia di associazioni personali del mondo della cultura dello spettacolo hanno convenuto diciamo intorno a questo appello di estendere quello che ricordava prima di estendere il reddito di cittadinanza cioè ci sembrava il momento opportuno di rafforzare questa misura attraverso proprio il suo diciamo allargamento della platea diciamo che abbiamo avuto una quantità di bonus spaventosi come mai visti prima quindi parliamo di miliardi sicuramente è stato un lavoro ingente quello fatto dal governo sotto la pandemia ma di fatto facciamo un esempio dei tre famosi dei tre e mezzo famosi milioni di persone che hanno assaltato in una notte il sito dell'Inps per i famosi bonus 600 euro di questi non sia più notizia perché i famosi bonus 600 euro sono volati da marzo a maggio e sappiamo che poi molti non hanno potuto fare più domanda ora ovviamente molti di questi probabilmente saranno anche rientrati diciamo così del reddito di cittadinanza dentro questi dati che vediamo appunto usciti qualche settimana fa però è evidente che secondo me secondo noi in quella occasione si è persa un po' una partita fondamentale molto importante è stata una mancata occasione quella di non estendere la cittadinanza dando così maggior forza proprio a quella legge lì proprio a quella misura e si è scelto invece ma io immagino questo probabilmente è fatto diciamo è anche un frutto di mediazioni politiche di quel momento delle varie della maggioranza che sappiamo quale era e quindi probabilmente ci saranno state molte questioni di cui noi non siamo a conoscenza che hanno portato a determinare invece la scelta di aggiungere un ultimo reddito come reddito di emergenza che pure quello era a temporale i bonus per le badanti i bonus per questo tipo e poi diciamo tutti i bonus categoriali tutti molto spesso a tempo che questi costano non è che non hanno un costo quindi probabilmente lo stesso costo messo sulla cittadinanza allargando nella platea quindi innalzando i criteri di accesso avrebbe probabilmente rafforzato invece al contrario la misura della cittadinanza ed oggi avremo probabilmente non solo un miliardo in più come si ricordava prima ma qualche miliardo in più anche perché dobbiamo tener conto che è vero che sicuramente quella fatta intorno alla cittadinanza è stata un'operazione anche da un punto di vista finanziario notevole rispetto a ciò che conosciamo in Italia però va anche detto che se dobbiamo avere una fotografia dell'Europa diciamo che la Francia nel duemila e tredici del solo RSA cioè il revenuto desolato che sarebbe il nostro reddito minimo spende dieci miliardi all'anno e quindi capite che le comparazioni poi dipende dove le andiamo a fare certo se ci andiamo a fare la comparazione con appunto la Guinea dieci miliardi sono enormi per la Francia e otto sono tantissimi per l'Italia però rispetto diciamo a chi ha questa misura da più tempo di noi probabilmente non siamo riusciti a raggiungere una certa quota diciamo anche di finanziamento sicuramente notevole ma non diciamo necessaria per almeno arrivare a tutta quella platea di diseredati che purtroppo non possono essere ricompresi in questo momento nella decisione in alza tenuto conto poi anche di un altro fattore che diciamo proprio rispetto alla mancata occasione malgrado come vedete diciamo ritengo che sia stata un'occasione fondamentale l'introduzione della decisione per cui si parte come diceva prima Ragare Serino si parte da ciò che c'è però insomma abbiamo avuto una narrazione che partiva da il valorevole Di Maio che parlava di 780 euro a tutti quelli che stanno al di sotto della soglia di povertà per poi finire a dire abbiamo abolito la povertà per poi finire a dire diciamo che le persone non devono stare sul divano per poi finire a dire che chi lo prende deve lavorare per poi finire a dire che ci saranno i PUC cioè dovete essere dei volontari obbligatoriamente a fare ciò che il comune vi dice per poi arrivare a dire bisogna fare anche reddito d'emergenza per poi arrivare a dire ci vogliono i bonus quindi capite che la mancata occasione dell'estensione della cittadinanza in verità ha prodotto un suo indebollimento attraverso tutto questo per poi arrivare a dire qualcos'altro ecco insomma non si è colto invece una centralità che secondo noi andava colta esattamente in quel momento anche perché poi suffragati in quel momento dal ciò qui i vari appunti che mi sono preso per oggi eh di Dombrovski che nel venti maggio venti venti noi avevamo lanciato questa campagna che era aprile quindi un mese dopo Dombrovski dice diciamo alla Commissione Europea che bisogna rafforzare il reddito in alza per raggiungere più vulnerabili estendendolo perché il reddito di emergenza è solo una misura temporale questo significa che è una raccomandazione questo all'interno delle raccomandazioni annuali e quindi Dombrovski auspica all'Italia di estendere questo benedetto reddito in alza tutto ciò sappiamo che non è avvenuto vedremo se con il nostro diciamo santo Draghi questo sarà possibile vedremo anche se sarà possibile arrivare a quello che veniva ricordato prima cioè una sperimentazione di un 5% della platea almeno per tentare e verificare dentro queste sperimentazioni internazionali di cosa vi andrò a dire qualcosa ve la racconto e per vedere se appunto un reddito di cittadinanza meno condizionato ha dei risultati diversi da quello più obbligatorio se lo do conto che poi è una cittadinanza che in qualche modo deve riferirsi sempre ad una spesa perché poi l'erogazione diretta è sempre su carta e quindi si va a fare la spesa in sostanza si pagano le bollette eccetera però quello è quanto non c'è un cash di 780 euro al mese tant'è che la media diciamo per il sud Italia a 500 euro e qualcosa di meno per il nord Italia come media di reddito quindi non siamo mai arrivati diciamo così ad una media più alta di 5,50 tenuto conto che un'ultima ricerca appena uscita e che si riferisce poi a quello che ricordava credo anche Bronzini prima cioè a questa diciamo al Consiglio Europeo che ha diciamo lanciato sull'action plan eccetera eccetera e tenuto conto che appunto negli ultimi nel 2019 l'Austria ha aumentato il reddito come media individuale cioè il reddito minimo garantito a 861 euro e 1.550 per una coppia la Danimarca a 957 euro e 2.484 euro al mese per una coppia e l'Olanda a 969 euro per un singolo e 1.707 per una coppia quindi capite che diciamo siamo un po' lontani da queste cifre qui e non li abbiamo certo ricalcolati in questo diciamo in un senso più europeista quindi malgrado le diciamo così indicazioni sulla nazionale malgrado la necessità di rafforzare che poi era quello dello studio anche del Consiglio Europeo di questo think tank che dice appunto bisogna rafforzare le forme di reddito minimo garantito secondo me in Italia si è giocato poco con il reddito in alza o meglio è stato forse un po' accantonato probabilmente anche gli stessi promotori avranno avuto come dire una difficoltà come dicevo prima di far passare una serie di occasioni che secondo me invece quella della pandemia era l'occasione perfetta proprio perché malgrado capisco che il disastro stiamo parlando appunto di questa specificità perfetta proprio invece per rafforzarla e farlo diventare la misura regina diciamo così diciamo dell'innovazione welfareistica italiana e che questo ovviamente non è terminato è finito il mondo questo è ancora tutto possibile perché purtroppo vediamo che ancora questi giorni che ci siamo sempre c'è sempre qualche altro bonus da dover inventare perché una volta sono i maestri di sci una volta sono gli ambulanti una volta sono quelli del lavoro culturale una volta sono i riders quindi ogni tre o quattro giorni esce una categoria che non ha avuto alcun tipo di sostegno e quindi probabilmente avere steso il radio c'è in ansa ampliando nella platea e introducendo anche queste diciamo categorie quindi passando diciamo da un ise molto più altro probabilmente ci avrebbe evitato un sacco di spreco di denaro e avrebbe probabilmente rafforzato questa misura stessa ora il punto qual è il punto è che non è che questo è un dibattito che riguarda l'Italia o l'Europa sicuramente l'Europa sta dando indicazioni in questo senso si ricordava prima appunto il punto quattordici dei social pillar però questo è un dibattito mondiale io vi dico semplicemente che anche qui scusate un attimo che il nel diciamo nella settimana che va dal 3 al 10 aprile 2020 quindi nel pieno diciamo della pandemia del primo lockdown in tutto il mondo 106 paesi hanno introdotto nuove forme di protezione sociale in particolare di sostegno al reddito diretto cioè di cash transfer si tratta del 26% in più rispetto alla settimana precedente quando i paesi mondiali erano al mondo erano 84 c'è stato un aumento di programmi di protezione sociale del 50% passando da 283 a 418 le formule di intervento maggiori cioè 241 programmi innovativi sono tutti quanti cash transfer questo ha coinvolto 594 milioni di persone nel mondo in più rispetto alle misure di protezione sociale di cash transfer cioè di denaro diretto alle persone capite che il tema del reddito di base non è che diciamo io capisco che forse non arriveremo forse a un milione come dice anche Michele dovremo coinvolgere questi o quelli certo in questo paese secondo me ci sono delle dei ritardi culturali soprattutto rispetto a questa proposta ma è evidente che la diciamo come dire il motore della storia sta andando un po' in quella direzione se volete anche il motore della storia di questo paese cioè qui abbiamo il reddito di salinanza c'è sarà l'introduzione dell'assegno unico universale per i figli che anche quello è una formula di reddito di salinanza secondo me anche il cashback è una formula di reddito di base perché effettivamente viene erogato in parte laddove c'è una diciamo uno scambio della spesa che però ti viene riconosciuto questo 10% insomma ci sono una serie di diciamo come dire di tensioni che vanno necessariamente dentro un'idea perché questo è il punto di terzo millennio che intraveda delle chiavi di fiducia noi abbiamo passato gli ultimi vent'anni di questo avvio di terzo millennio catastrofici abbiamo tutto crisi ambientali crisi economiche crisi delle società democratiche crisi sanitarie crisi geopolitiche non ce ne manca una nel senso qui passiamo dall'incendio delle foreste australiane alla pandemia come se niente fosse con diciamo disastri sull'economia reale sul lavoro e quant'altro quindi siamo passati per la guerra diciamo al terrorismo con paesi islamici cioè non ci siamo fatti mancare nulla in questi ultimi vent'anni il reddito secondo me la proposta di reddito di base è una delle poche chiavi diciamo che ci dà un minimo di luce in fondo al tunnel rispetto a quello che abbiamo vissuto nel corso degli ultimi vent'anni quindi sicuramente è la proposta più innovativa che in questo momento gira per il mondo e questo non è un diciamo un diciamo una cosa che dico io così a prescindere perché sono un pro reddito ma questo è un dato reale noi per la prima volta nella storia diciamo del dibattito mondiale che va avanti dal 1500 sul reddito di base e ci troviamo con dei dati empirici cioè nel senso noi abbiamo vere e proprie sperimentazioni fatte ormai su migliaia decine di migliaia di persone anzi centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo che cominciano a darci un feedback di dati di dati empirici cioè scientificamente comprovati abbiamo tra le migliori università al mondo che li stanno studiando dal MIT di Boston all'università di Kent adesso da pochi giorni poche settimane l'università di New York ha avviato un laboratorio interdisciplinare universitario per studiare tutte le forme gli schemi di reddito di base finanziato oltretutto con 3,6 milioni di dollari quindi non è che hanno inventato un laboratorio tra quattro amici hanno investito per studiare queste nuove innovazioni e queste innovazioni di reddito di base e partendo dal fatto poi che e qui ne cito giusto qualcuna iniziamo a individuare anche diciamo i temi più innovativi anche per il suo finanziamento vi faccio semplicemente alcuni esempi a maggio ci sarà in Scozia le elezioni ci saranno le elezioni politiche per il nuovo premier quattro su cinque candidati sono il presidente sono tutti a favore del reddito di base si sono già individuati una serie di studi di fattibilità in alcune contee e in alcune in alcune contee delle scozzesi ma la cosa più interessante è che si è individuato come una tra le formule primarie di finanziamento diciamo del reddito di base una web tax ora questo tema quasi diciamo casualmente ma non è casualmente è un tema che è stato affrontato da uno dei candidati presidente degli Stati Uniti Andrew Young che era diciamo adesso è candidato per diventare sindaco di New York dei democratici il quale ha fatto tutta la battaglia sul suo programma il freedom dividend cioè una battaglia dedicata solo esclusivamente al reddito di base e il finanziamento che prevede appunto Andrew Young è un data dividend cioè una tassazione sui dati sui big data tecnologici che comportano numeri altissimi che noi non ci immaginiamo e che tra poco vi andrò a denunciare da questa questione qui è nata addirittura un ulteriore passaggio molto interessante nato prima da alcuni sindaci in particolare Michael Tubbs di Stockton una piccola cittadina in California che era praticamente stata dichiarata in fallimento una città che aveva praticamente finito i soldi dal punto di vista del fidancio comunale che invece è ripartita pensate voi proprio con alcuna sperimentazione di base da lì è nata una coalizione di sindaci si chiama Majors for Guaranteed Income sono diventati 35 le città negli Stati Uniti compreso Los Angeles e Chicago quindi anche le città più grandi che stanno elaborando programmi di reddito di base locali ovviamente in questo senso noi stiamo sempre ragionando su forme di reddito di base incondizionato ma non universale nel senso che vengono sempre comunque riferiti a dei target specifici quindi in questo senso in particolare alle persone in povertà cioè non c'è quella universalità che si intende diciamo per reddito di base universale quindi a tutti gli esseri umani in quanto tali ricchi o poveri che siano no sono tutte sperimentazioni che hanno comunque un target ma che hanno forte due questioni la questione dell'individualità che ricordava prima Regale Serino e la questione della incondizionalità diciamo così a obblighi specifici quindi proprio perché non si ha un approccio paternalistico del povero che è povero in quanto tale perché non si è dato da fare al contrario viene proprio inteso tant'è che il progetto diciamo di Stocco in California era proprio sul rafforzamento economico delle persone cioè proprio perché riconosceva gli individui i soggetti che erano caduti in difficoltà economica in quanto persone non in quanto coloro i quali non si erano come dire impegnati abbastanza nel corso della loro vita ecco questa esperienza qui legandola alla Scozia eccetera già ci dà una serie di indicazioni molto interessanti in più l'altra indicazione interessante vi potrei fare decine di esempi delle decine e decine di sperimentazioni che si stanno diciamo avendo nel mondo dall'Africa all'America Latina e via discorrendo passando anche per l'Europa ma un'altra opzione un'altra sperimentazione molto interessante che vi dico molto velocemente in questo diciamo per fare una fotografia veloce è quella che si sta svolgendo in Corea del Sud dove lì addirittura sono 170.000 le persone che ricevono un reddito di base attraverso una moneta locale provinciale e dedicata destinata in particolare alle persone che hanno 24 anni quindi ai giovani e soprattutto perché ai giovani di 24 anni viene erogato questo reddito di base perché è la prima volta nella storia del paese della Corea del Sud un paese in enorme espansione molto ricco che questa fascia di età di giovani è quella che affronta la difficoltà della precarietà esattamente del lavoro cioè sono persone che come sappiamo nel nostro fantastico laboratorio italiano stanno appunto subendo questa condizione di estrema passaggio fra produzione e non produzione occupazione e non occupazione quindi questa enorme precarizzazione della loro vita e quindi viene riconosciuto a loro innanzitutto adesso questo tema è diventato un tema nazionale tanto che è diventato un tema di dibattito politico delle prossime elezioni appunto politiche in Corea del Sud quindi in questo senso capite che il tema diciamo va molto al di là della specificità nostrana anche nostrana europea anche se l'Europa evidentemente attraverso questa inserita cittadina europea diciamo prende parola su questo tema e anche attraverso alcune sperimentazioni come quella appunto che si ricordava prima della Finlandia comincia o anche quella olandese comincia a dare i suoi risultati ma ve ne sono molte altre c'è quella tedesca partita da qualche tempo che appunto vede coinvolte per tre anni un certo numero di persone a 1200 euro al mese e che è seguita anche questa dalle università tedesche proprio per sperimentare l'effetto che produce un reddito di base incondizionato ora io qui giusto per dirvi due cose nel senso che è evidente che qui c'è stata una trasformazione spaventosa negli ultimi anni io ritengo anche che probabilmente un ulteriore passaggio molto interessante sarebbe potuto essere quello di pensare di rafforzare quella che è stata proposta dal tempo di Gentiloni Premi e della WebTax all'italiana c'è uno scontro per diciamo per finanziare c'è uno scontro spaventoso in questo momento di cui nessuno sta parlando voi sapete che l'Italia c'è la presidenza del G20 se andate a vedere praticamente il calendario degli appuntamenti del G20 tre quarti degli appuntamenti sono sulla questione digitale e tassazione digitale perché non se ne sta uscendo c'è uno scontro spaventoso fra Europa e Stati Uniti come mai prima altro che che siamo tutti amici e andiamo a chiedere agli Stati Uniti di darci una mano in Libia c'è uno scontro spaventoso la Francia ha tentato di introdurre una WebTax e gli è stato nel giro di poche settimane diciamo così paventata l'idea di enormi tazzi ovviamente questo era diciamo nella fase Trump che metteva tazzi a destra e a manca però diciamo che Biden sta anche lui andando in parte verso Europa in questa direzione ma in parte negli Stati Uniti nella direzione opposta perché sta cercando di far entrare tutti quei capitali che altrimenti dovrebbero essere appunto dati nella tassazione europea ma io vi parlo di cifre che sono spaventose cioè nel senso che per dirvene una e per dirvi anche il collegamento Stati Uniti Europa allora solamente Amazon ha una capitalizzazione di 1500 miliardi di dollari e ha pagato 160 milioni di dollari di tasse negli Stati Uniti nel 2019 capite che questa è un'economia che non può cioè è una è una condizione che non può reggere cioè non ora per quanto uno diciamo dice c'è il libero mercato il paese il mondo è diciamo a capitalismo avanzato ormai è un unico grande modello ma è questo anche dentro diciamo la sfera del capitalismo avanzato questa roba è insostenibile nel senso Amazon praticamente c'ha il PIL di cinque paesi africani se li compra con i spiccioli ma per andare oltre per dirvi in Europa nel Regno Unito solo Amazon ha versato 8 milioni di dollari di tasse a fronte di un giro di affari di 17 miliardi di dollari in Francia 250 milioni di tasse a fronte di 4 miliardi e mezzo di profitti in Spagna nel 2018 4 milioni e mezzo di euro di tasse a fronte di 490 milioni di euro e le collegate di Amazon in Italia hanno versato 11 milioni di euro a fronte di 4,5 miliardi di dollari di profitto tutte insieme Google Amazon Facebook Apple Airbnb Uber e Booking hanno versato in Italia nel 2019 42 milioni di euro tenete conto che Netflix ha versato qui vi verrà da ridere ma purtroppo non c'è da ridere 6.000 euro ha versato 6.000 euro di tasse all'Italia questa condizione qua pure diciamo è una questione che riguarda l'Europa perché voi sapete che l'Europa non può tassare due volte la stessa società questo gli è bastato andare in Lussemburgo in Olanda e in Irlanda e si tassa lì quindi dalla tassazione delle digital della digital economy è praticamente ai minimi livelli a un 3% nemmeno e capite che praticamente tutti questi profitti noi non diciamo questa tassazione non le possiamo realizzare ora capite che parliamo di una quantità di denaro spaventoso tenuto conto anche del fatto che allora le 25 diciamo giganti web al mondo nel 2019 solamente hanno toccato profitti per 1.014 miliardi di euro 1.014 miliardi di euro 25 società che è praticamente pari all'8% di tutto l'affare diciamo gli affari mondiali mondiali quindi solamente loro in 25 constano dell'8% del PIL mondiale hanno avuto ritmi di 10 volte superiori a quelli della grande manifattura cioè in 5 anni il più 118% rispetto a tutte le multinazionali manifatturieri sono numeri enormi numeri enormi fino a 146 miliardi delle industrie mondiali quindi un 15% in più nei primi sei mesi del 2020 con un tasso medio anno di crescita cioè di profitto di crescita del 24% sono evidente che qui come dire va rimessa un po' in discussione non solo la questione perché noi ci occupiamo più diciamo direttamente delle persone che sono in difficoltà ma qui va messa in discussione l'altro pezzo perché se noi pensiamo ai poveri qualcuno dovrà pure pensare ai ricchi perché qui c'è un problema di mancanza di redistribuzione di questi profitti che sono enormi tenuto conto che una buonissima parte di questi profitti e qui diciamo entriamo in una dinamica molto più interessante è dettato da quello che è la raccolta dei famosi big data cioè i nuovi pozzi di petrolio tenete conto che solo nel 2016 gli utili secondo gli analisti delle ICT il 2016 gli utili diciamo estratti dall'utilizzo quindi dalla commercializzazione dei big data è stato di 130,6 miliardi di dollari l'anno successivo è stato di 203 miliardi di dollari ci sono questi due ricercatori William Posner che hanno scritto questo libro che radical markets eccetera che hanno fatto un calcolo che se già fossero redistribuiti un terzo di questi soldi diciamo di questi profitti provenienti solo da big data una famiglia americana di quattro persone avrebbe 20 mila dollari l'anno così a gratis semplicemente perché sta ferma diciamo così semplicemente perché utilizza il computer capite che si apre un nuovo capitolo in questa epoca che non può essere rimandato così ne die cioè non possiamo continuare a pensare appunto come dire al 1900 alla tuta blu che sicuramente diciamo ha tutta la nostra più simpatica attenzione ma questo è stata una rivoluzione spaventosa cioè la rivoluzione delle macchine la rivoluzione del computer la rivoluzione tecnologica non è che non ha avuto un impatto ha avuto un impatto enorme guardate dove stiamo noi a parlare cioè noi stiamo parlando dentro casa attraverso zoom che sta producendo dati costantemente da circa un'ora e mezza se non di più e di cui noi praticamente siamo solo diciamo dei fruitori di questa informazione che stiamo dando costantemente da dove siamo connessi chi sta parlando di cosa si parla cioè di tutto e di più insomma che quadro ha bronzine dietro le spalle quello viene elaborato non è che non viene elaborato così la mia finestra eccetera quindi capite che di questo tema qui non è che possiamo rimandarlo come qualcosa di fantascientifico perché non lo è più qualcosa di fantascientifico è il mondo col quale ci stiamo confrontando ed è un mondo che sta generando profitti enormi non è che è un mondo che dice vabbè non è un mondo che non mi interessa più di tanto perché non riesco essendo intangibile probabilmente non esiste no no è esattamente l'opposto dal mio punto di vista almeno non è un caso che appunto Andrew Young inventa l'opzione data dividend non è un caso che la Scozia si inventa di finanziare l'adito di base attraverso proprio la tassazione diciamo di quelle compagnie società tecnologiche che lasciano praticamente zero virgola di tasse nel paese e non è un caso e questo è proprio di qualche giorno fa ci sta appunto diciamo è stato ormai definito diciamo in questo scontro tra il geopolitico il geofinanziario in particolare fra Europa e Stati Uniti ma non solo dove appunto l'Europa ha fatto finalmente la voce grossa e ha detto in sostanza che se all'interno dell'Ox non si trova una formulazione cioè un accordo globale per una web tax internazionale perché purtroppo va fatta si può fare solo a carattere internazionale perché in questo modo dello spostamento dell'head quarter cioè della casa madre della società basta che va le BAMAS per dire ecco fatto che non paga più le tasse se ne va in Delaware negli Stati Uniti non paga più le tasse quindi è necessario un accordo internazionale tuttavia l'Europa ha detto che se non si fa questo accordo internazionale dal primo gennaio duemilaventitré l'Europa comunque introdurrà una qualche forma di web tax soprattutto a carattere europeo perché al momento si fa ognuno in ordine spazio la Francia ce n'ha uno che proprio gli hanno detto dei tazzi quindi hanno frenato l'Italia quella introdotta gentiloni che proprio lì abbiamo frenato di nuovo stiamo rimandando sei mesi dopo sei mesi e tutti i paesi ne hanno più o meno individuata una ma capite che se l'Europa fa 20-30 forme di web tax nazionale chiudiamo l'Europa e andiamo tutti a casa perché vuol dire che non siamo stati in grado di costruire una fiscalità europea necessaria anche per il reddito di base necessaria anche per individuare una forma continentale di protezione sociale uguale in tutti i paesi anche se differenziata da un punto di vista dell'erogazione quello che volete ma che però non crei questi gap assurdi che appunto un disoccupato in Danimarca porta a casa duemila euro e un poveraccio italiano deve fare la richiesta del reddito di cittadinanza deve fare le capriole cioè è una cosa che non è proprio più possibile no? di tornare a riferirsi all'ISE del duemiladiciotto per prendere un reddito nel duemiladiciotto per poi confermarlo diciotto mesi dopo con la paura che viene appunto non confermato e via discorrendo ora questo tema qui però è un tema secondo me centrale che ci torna diciamo concludo al punto di partenza e cioè noi abbiamo l'opportunità effettivamente oggi di giocare su due piani io qui rubo l'idea diciamo le sollecitazioni anche a Peppe Allegri e con quale abbiamo avuto spesso appunto proprio di confronti proprio intorno a questa strategia diciamo così come dire di giocare su questi due piani cioè per quanto riguarda l'Italia è evidente che noi dobbiamo continuare a puntare sull'estensione di reddito non c'è non c'è non possiamo pensare che diciamo facciamo bonus per altri due anni ammesso che altri due anni bastino per uscire dalla pandemia e da una crisi spaventosa di tipo sociale quindi è evidente che prima o poi io mi auguro credo spero spingeremo come associazione per andare in questa direzione che tutte queste categorie i lavoratori dello spettacolo i lavoratori precari i lavoratori di qua i lavoratori di là si uniscano in qualche modo dentro la rivendicazione unitaria dell'estensione della cittadinanza attraverso il lanciamento dei criteri ISE di modo che così ci rientrano qualche altro milione di persone e che si rivendichi quindi un riaccorpamento di tutti questi bonus e anche i soldi che si portano dietro questi bonus quindi un finanziamento quantomeno alla francese di 10 miliardi di euro l'anno perché altrimenti diciamo facciamo un po' all'italiana ci abbiamo il reddito ma può darsi anche che non ce l'abbiamo ora c'è o non c'è un po' come se vedete la mappa se voi vedete la metropolitana di Roma vedete la mappa della metro sembra che ci sono 20 linee no ce ne sono due anzi due e mezza ormai di cui gli altri 18 sono praticamente le ferrovie che girano intorno a Roma e che dovrebbero essere diciamo scritte alla metro romana però effettivamente di metropolitana c'è due e mezza quindi sembra un po' che imparrucchiamo le cose per poi in sostanza ritrovarci un po' con delle mancate occasioni quindi da un punto di vista italiano muovere ancora sulla giustizia di Nazza e trovo assurdo che siamo proprio noi quelli per il reddito di base a dover immaginare forme o meglio assurdo no però lo trovo un po' singolare siamo per il reddito di base universale condizionato e dobbiamo trovare delle opzioni per rafforzare esattamente la giustizia di Nazza perché poi il reddito di cittadinanza ha avuto una narrazione come dire un po' confusionaria dei promotori ma dall'altra parte c'è avuto un bombardamento costante nel senso da Renzi a tutti i giornali se potessero affossare il reddito di cittadinanza domani mattina lo farebbero con gioia quindi è evidente che noi non possiamo permetterci di tornare indietro noi dobbiamo permetterci di andare avanti per questo l'estensione della giustizia di cittadinanza secondo noi era la chiave perfetta precisa che calava esattamente nel tempo giusto e che però come abbiamo visto non ha avuto seguito dall'altra parte l'Europa cioè il reddito di base appunto dentro l'Ice dentro i stati europei anche ancora una volta proprio perché la definizione avviare il reddito di base in ogni paese potrebbe anche questa rafforzare la giustizia di Nazza perché potrebbe essere esattamente quella parte della giustizia di Nazza più incondizionato per comprendere quindi togliendo alcune norme per rendere così almeno una parte sperimentale in questa direzione quello che è certo è che però nel quadro generale almeno io avendo questa fotografia un po' complessiva di ciò che accade nel mondo sinceramente trovo uno che l'Italia è un po' abbastanza lettera sul dibattito politico-culturale cioè effettivamente non si stanno affrontando alcuni temi che ormai in alcuni paesi sono diventati temi importanti io ho parlato prima delle tecnologie ma questo è un tema che per esempio negli Stati Uniti è il tema dominante su come affrontare questa questione della tassazione delle big company parliamo del paese più capitalista al mondo quindi se si fanno il problema loro di come tassarli probabilmente noi abbiamo un doppio problema perché non abbiamo quell'approccio lì probabilmente lì così altamente liberista ma non troviamo neanche le chiavi dall'altra parte credo pure che l'indicazione che le sperimentazioni in tutto il mondo ci stanno dando a partire proprio da dati scientifici empirici ci consegnano una nuova fase cioè noi ormai sappiamo l'effetto che produce per esempio sul lavoro un reddito di base incondizionato noi oggi lo sappiamo perché abbiamo di fronte decine di questionari sondaggi studi ricerche sul campo avvenute in tutti i continenti e tutte raccontano più o meno di una stessa diciamo scena di uno stesso contesto migliorano l'alimentazione e migliorano le opportunità le persone sono meno stressate psicologicamente le persone si ricollano da sole c'è chi dà vita ad attività proprie ne potrei citare decine e decine di queste diciamo di queste di questi risultati se volete poi potremmo fare un'altra occasione solo esclusivamente una cosa del tipo appunto una fotografia di ciò che accade in giro per il mondo però abbiamo anche questo ulteriore elemento da poterci giocare dentro diciamo la rivendicazione di un reddito cioè il come dire mettere a conoscenza ciò che sta accadendo adesso a coloro i quali ricevono un reddito di base incondizionato quindi abbiamo queste spinte io ritengo come dicevo prima che questa è una delle poche chiavi al momento e che si intravedono quella della web tax è sicuramente una chiave secondo me è un passaggio fondamentale che se non ci si arriva noi io non credo che possiamo continuare a fare debito su debito nel senzionale l'Italia si può permettere di fare 30 miliardi di debito ogni tre mesi perché capite che è impraticabile e quindi probabilmente dovremmo arrivare si arriverà qualcuno arriverà da una parte una rivendicazione di una misura più universalistica e più diciamo ricompositiva di tutti questi diseredati e dall'altra qualcun altro dovrà arrivare a tirare delle somme perché è evidente che noi non possiamo avere Netflix che lascia 6 mila euro in Italia di tasse ragazzi cioè 6 mila euro di tasse che pago io che so un ricercatore a tempo a collaborazione cioè abbiamo Netflix facciamo diventare Zoom Riunione con la nostra Netflix e lasciamo 6 mila euro di tasse anche noi perché non è pensabile proprio una cosa che reclama vendetta altro che i ristori cioè qui veramente diciamo bisognerebbe rivendicare ben altro e dall'altra parte c'è questa invece opportunità enorme dell'Europa che anche se non ci dovesse offrire il milione di firme cosa che noi invece speriamo e con la quale stiamo tentando di arrivare con tutti i nostri piccoli mezzi però è evidente che qualsiasi sia diciamo la cifra di firme a cui si giungerà abbiamo questi questo altro anno ormai perché appunto come ricordava Michele è stata prolungata fino al marzo 22 e abbiamo questo altro anno per mobilitarci per mobilitare forse anche solo attraverso queste occasioni però ecco appunto qualche giorno fa anche la CILD in quale il BIN diciamo fa riferimento che è appunto il Pugnale Italiano diciamo i suoi diritti a cui fanno parte numerosissime associazioni ha dato l'adesione e stanno anche loro spingendo per raccogliere le firme quindi piano piano si allarga il tema certo devo essere sincero e onesto fino in fondo nella definizione di reddito di base c'è di tutto perché diciamo nel marasma generale più o meno c'è chi pensa sia un sostegno al reddito per i disoccupati e chi pensa che destina dei poveri sono molto pochi quelli che pensano che il reddito di base universale significa darlo a tutti i Salvini compreso ok quindi intorno a questo tema andrebbe fatta una riflessione un po' più approfondita cosa si intende per incondizionalità cosa si intende per universalità e quant'altro non a caso noi abbiamo lanciato a settembre scorso durante la settimana internazionale per il reddito un sito che raccoglie attraverso un questionario attraverso una serie di domande le definizioni più affine in base alle risposte di coloro che vi hanno partecipato oltre mille persone hanno partecipato a questo questionario e il 61% è a favore di un reddito di base universale e condizionato lì è molto chiaro perché proprio si dice chiaramente daresti a tutti gli esseri umani oppure daresti solo ai poveri e il 61% ha votato tutti gli esseri umani quindi capite che ci sono degli spazi in cui anche questo ritardo se volete culturale di un nuovo diritto universale un nuovo diritto umano un nuovo diritto economico nell'era digitale come direbbe il libro diciamo di Peppe Allegri una una diciamo una chiave per arrivare per aprire e per entrare in questo terzo millennio con maggior fiducia e meno stress scusate la lunghezza bene in realtà sono quasi due ore e mezza che stiamo usufruendo di zoom ma andando in giro i dati compreso il quadro che ha le spalle di Papi che non riesco a capire di chi sia l'autore ma insomma sicuramente è un autore di alto livello conoscendo Bronsi vabbè c'è una domanda di un ascoltatore molto assiduo che è Mauro Riccardi che ha fatto dei commenti che vi voglio leggere e magari forniscono lo spunto a qualche ulteriore piccola esternazione allora ci dice ci chiede Mauro condivido in pieno il filo conduttore del convegno aggiungo che la contro prova di quello che i relatori stanno affermando prova un riscontro nelle manifestazioni del Circo Massimo e Palazzo Chigi e poi aggiunge credo che con riferimento ai riders ci sia una sentenza del 2020 che ha qualificato ai riders come lavoratori dipendenti articolo 2094 ora vi ho voluto leggere questi commenti non erano domande sono commenti che fa Mauro Riccardi perché insomma danno un po' un'idea che questo spaziale lui evidentemente si riferisce al Circo Massimo dell'altro ieri non la famosa al Circo Massimo con cofferali del non so che anno fosse insomma sulle pensioni si riferisce al Circo Massimo dei ristoratori dell'altro ieri come pure Montecini una parte i ristoratori chiedono i ristori scusate il gioco di parole l'altra i rider insomma che sono invece le categorie un po' emblematiche dell'attuale precarietà e super sfruttamento che vede presenti anche big come Amazon no mediante appunto i suoi varie emanazioni sul piano del trasporto al domicilio eccetera dà un po' un'idea poi della universalità in realtà di questo tema che abbiamo oggi trattato in realtà abbiamo cominciato a trattare perché il tema è molto ampio e andrebbe approfondito un altro commento di Arsene ha le giramenti è un'eventuale rete universale che fosse ampiamente inferiore alla sua sicurezza ma poi sarebbe ugualmente auspicabile o potrebbe creare danni che benefici tenendo presente anche la mancanza di salario minimo ecco questa è già una domanda che ho potuto leggere questi due interventi diciamo così per dare modo anche una partecipazione poi se ci sono su questi elementi o anche su altri degli interventi ulteriori se no magari la lasciamo per un prossimo incontro virtuale o meno che vogliamo fare volete intervenire qualcuno vuole puntualizzare ecco la dirò io per finale per finire che ci auguriamo che vengono raccolte il milione di firme in tutta Europa i 103.000 quanti siano in Italia ma non è che poi una volta raccolte le firme hai ottenuto l'obiettivo secondo me io poi sarò pessimista da questo punto di vista non c'è pure una certa età ormai ahimè e quindi so come vanno le cose a questo mondo comunque vi ringrazio molto scusa Fabio se ti interrompo ai sensi del trattato la commissione è costretta se ritiene la proposta ammissibile qui tutto da vedere però deve presentare una proposta di iniziativa legislativa coerente con la proposta quindi il trattato pensa che questa raccolta debba essere comunque ascoltata e portata avanti agli ordini europei no no questo lo so Fabio il problema è che ho dei dubbi diciamo di carattere più esistenziale riguardo comunque vedremo 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 non sei raccogliamo questa cosa c'è no no non sei l'unica non sei l'unica da avere questi dubbi anche perché l'abbiamo già fatta di tutti i colori diciamo le migliaia di firme date nel 2013 per il reddito minimo in Italia quando appunto Rodotà diceva per le firme di iniziativa popolare dovrebbe esserci un diciamo una corsia preferenziale mentre invece non è stata mai discussa questa legge va bene ma quello che diceva Giuseppe Bronzini è esattamente così nel senso che se dovessimo arrivare a un milione sono obbligati diciamo a dare delle risposte anzi attraverso atti formali ora scusate se intervengo velocemente il legame con la gestione di inanza sta proprio qui cioè potrebbe esattamente essere che l'output finale se dovessimo raggiungere assolutamente un milione di firme è esattamente una riformulazione della gestione di inanza o come diceva Bronzini prima una misura di accompagnamento accanto e quindi rispondo anche a chi faceva la domanda potrebbe anche essere che si introduce 50 euro al mese di reddito universale accanto a coloro uguale già per esempio hanno il reddito di inanza quindi arriviamo a un milione facciamoci dire poi che diciamo è illegittimo ci sono problemi di tipo giuridico sovranazionale però lo debbono poi dire una volta arrivato un milione di firme debbono dire non si può fare o si può fare o cosa si può fare il legame reddito di base in questo senso con lice può avere invece un senso almeno per noi diciamo come strategia da qui a un anno poi tra chi ha un anno chissà quanti altra gente ricraverà le storie magari draghi ci fa la sorpresa bene allora arriviamo a un milione di firme se non altro per vedere che succede va bene grazie a voi per questo ottimo incontro spero che sia stato un momento utile per tutti buona serata grazie grazie a tutti grazie a voi grazie a tutti a presto a presto a presto grazie a tutti a presto